Buongiorno a tutti, facciamo questa seconda giornata del convegno dedicato a istituzioni culturali e storiografia Venezia 1960-2000, organizzato da Ca' Foscari e dall'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti che ringraziamo per l'ospitalità di oggi in occasione del centenario della nascita di Gaetano Cozzi, un atto, come è stato ricordato ieri, doveroso per quanto egli ha rappresentato per la cultura cittadina del Veneto e non solo. Ieri è stato ricordato da chi lo ha percepito come amico la sua vicenda umana, che è stata anche definita eroica, non disgiunta ovviamente da quella di studioso, studioso abbiamo visto con sguardo largo, non solo nell'ambito delle scienze storiche ma delle arti in generale. È stato ricordato il suo grande impegno nell'Accademia, soprattutto come fondatore del corso di laurea in storia presso l'Ateneo Veneziano, un'esperienza che è stata ricordata come una novità anomalia per il percorso che ha avuto, ma anche la sua esperienza presso istituzioni culturali, quale la Cini e la Fondazione Benetton Studi Ricerche. È stato anche tratteggiato lo straordinario clima culturale in cui è nato, ha visto la nascita di Gaetano Cozzi e gli esordi come studioso e sono state anche ricordate alcune relazioni fondamentali e importanti per la sua vita appunto accademica e non solo. La giornata di oggi è dedicata ad alcuni filoni della ricerca che hanno interessato Cozzi e di cui lui è stato uno dei riferimenti più importanti. Sarà una mattina, credo, molto densa e interessante. Saranno analizzati i rapporti Stato-Chiesa, la storia delle istituzioni. Purtroppo il professor Verga, per impedimenti, non potrà essere con noi, ma esordisce, diciamo, la relazione d'esordio è di Gian Maria Varanini. Credo di non doverlo presentare a nessuno. Si è interessato di tantissimo, medievista soprattutto, ho grandi interessi anche storiografici, per questo la sua relazione è dedicata alla storiografia veneziana e la formazione di Gaetano Cozzi. Come lo stesso dirà, sono appunti sull'apprendistato storiografico di Gaetano Cozzi prima della sua venuta, del trasferimento di Gaetano Cozzi a Ca' Foscari, vicenda che è stata trattiggiata ieri e quindi è un passo, diciamo, indietro. Lascio la parola. Va bene, grazie. Sì, la mia relazione in qualche modo fa da ponte fra le due parti, fra i due focus di interesse del nostro convegno. Ecco, non sono pochi i contributi che sono stati dedicati alla figura di Gaetano Cozzi e a lui come studioso e come maestro e anche alle istituzioni nelle quali la sua attività si è sviluppata. Ricordo volentieri, fra i molti, gli interventi di Giuseppe Trebbi, di Claudio Povolo, di Galasso, di Benzoni, che anche ieri ci ha dato quella bella testimonianza. Fra le riflessioni autobiografiche di Cozzi stesso vanno menzionate alcune pagine nella introduzione al volume del 97 su Venezia e itinerari per la storia della città e credo soprattutto quelle conversazioni con Marco Folin risalenti anch'esse al 97, ma pubblicate quasi dieci anni dopo, nel 2006, nel volumetto La Storia come esperienza umana, curato da Folin e Zannini e pubblicato dalla Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Quindi sono vicende, diciamo, abbastanza note e, come dire, tanto più al pubblico di oggi, diciamo che è in buona parte appunto costituito da studiosi, da allievi, da estimatori veneziani. Ecco, e come ricordava Alessandra Rizzi è che io mi concentro appunto sulla prima fase della carriera scientifica di Cozzi fino, diciamo appunto, al 66, fino alla vittoria nel concorso, alla presa di servizio a scienze politiche e alcuni anni dopo, che prelude, 4-5 anni dopo al trasferimento a Ca' Foscari. Ecco, credo appunto, forse ho messo un infratesto, un sottotitolo a punti perché altrimenti il titolo del mio contributo può creare delle aspettative, come dire, eccessive. Ecco, ho fatto con Gaetano Cozzi, diciamo, quella stessa operazione che mi è capitato in anni scorsi di fare per Violante, Arnaldi, Tabacco, alcuni grandi medievisti, cioè, come dire, cercare di individuare attraverso gli epistolari, i carteggi, le relazioni accademiche, naturalmente anche alla lettura dei loro lavori, ecco, le tracce della loro, sostanzialmente, prevalentemente appunto della loro formazione. Pertanto ho esaminato i carteggi di Cozzi con Delio Cantimori, Armando Saitta, Franco Venturi. Ho anche individuato, e poi è stato grazie a questa, come dire, mia iniziativa recentemente messo a posto, il piccolo ma interessante fondo Bognetti all'Istituto Lombardo di Scienze, Lettere e Lettere d'Arti. Ecco, non ho potuto vedere le carte Firpo, ma ho fatto parecchi altri accertamenti nelle carte Sestane, Chabot, De Luca. Ecco, ho anche visto, e finisco subito questa noiosa elencazione, è quella parte dell'archivio di Gaetano Cozzi che si trova oggi appunto presso la Fondazione Benetton Studi e Ricerche e che è, credo, una parte del suo archivio personale, probabilmente quella che era conservata a zero branco e che, essere integrata naturalmente con altra parte, credo, conservata appunto nella Casa di Venezia. Ecco, ma da quanto ho potuto, come dire, ricavare da questo materiale, credo che ci siano appunto alcuni aspetti interessanti, alcuni aspetti significativi. Ecco, questo è un pochino lo schema che seguirò e così l'ho elencato proprio anche per chiarezza. Ecco, ho elencato prima alcuni nomi, no? Ecco, e partirei da alcune considerazioni proposte da Galasso in quel breve contributo sugli storici italiani del Novecento che era una commemorazione tenuta a Venezia, credo proprio, attorno al 2000, poi ripreso anche in un breve prefilo di Cozzi molto penetrante dovuto a Sergio Bertelli che si legge online sul sito della Treccani. Ecco, lo storico napoletano afferma, cito, che l'avventura storiografica di Cozzi non fu affatto una corsa solitaria, ma fu un episodio significativo di una stagione della cultura italiana che non fu una stagione soltanto storiografica né soltanto culturale, ma ebbe complesse relazioni con tutto lo svolgimento della vita civile italiana del tempo. Fine della citazione. Galasso aggiunge prudentemente che si tratta di riferimenti evocativi più che di precisazioni puntuali. Bertelli rammenta che quelli che io stesso citavo prima sono i nomi che Cozzi stesso fa nella prefazione al volume del 69 su Paolo Sarpi. Ecco, in questo intervento inizio un accertamento puntuale su alcune di queste relazioni culturalmente e umanamente significative. Ecco, e questa è la bibliografia alla quale ho fatto cenno, queste sono le fonti che ho usato. Ecco, perlomeno per il caso di Cantimori, ecco, posso dire che emerge una volta di più che non ci si può fidare del tutto dell'immagine che uno studioso offre di se stesso a posteriori. No, come sempre succede, sono immagini che sono soggette a preterizioni, a oblii, a rimozioni. Ecco, certo, come appena ricordato, Cozzi stesso ricorda che il nome di Cantimori da anni segue il mio lavoro con il suo consiglio prezioso e affettuoso. Lo scrive, ecco, lo fa nella prefazione a Niccolò Contarini e anche poi in forme simili nel volume Sarpiano. Ecco, ma le 62 lettere che Cozzi indirizza allo studioso romagnolo nell'arco di 12 anni, fra il 52 e il 64, testimoniano di un rapporto più vivo e intenso e importante proprio per la formazione di Cozzi di quanto non si potesse pensare in precedenza. Ecco, il rapporto di chi trova una guida, un'interfaccia nel quale rispecchiarsi con regolarità. Via via che leggerò ho messo alcune frasi evocative in qualche modo tratte da queste lettere e che in qualche modo aiutano a seguire anche il mio ragionamento, il mio discorso. Nell'agosto 52, mentre sta attendendo al riordino della biblioteca di Besta, morto fra poche settimane, Besta era il professore col quale si è laureato. Nell'agosto del 52 il trentenne Cozzi si presenta a Cantimori con una lunghissima lettera autobiografica, cinque fittissime pagine dattino scritte che sono sicuramente una delle prime, non la prima, ma una delle primissime lettere che gli ha scritto. Gli racconta la sua vita a partire dagli anni trenta, gli racconta le sue vicende tragiche, difficili del decennio successivo. Naturalmente qui interessa il percorso scientifico, interessa quello che aveva fatto e stava facendo dopo la tesi, le cose che aveva cominciato a fare come archivista volontario ai frari. Lì emerge un primo punto, quello che inizialmente era per Cozzi un mezzo, uno strumento, cioè studiare gli esecutori sopra la bestemmia ai fini del lavoro su Sarpi per avere una visione della vita religiosa veneziana che integrasse quelle che poi mi avrebbero dato i documenti del santo ufficio, fine della citazione, ecco, quello che era un mezzo diventa un fine. Faccio un'altra citazione, a forza di farmi passare davanti bestemmi e atteggiamenti irriverenti in chiesa e sui sagrati, di vedere rispecchiate nelle sentenze gli elementi caratteristici di un tono di vita religiosa. Dal basso una credenza carica, pletorica, sanguigna, di cui la bestemmia era l'espressione più paradossale. Dall'alto la stessa semplicità di sentire e solo in più la coscienza del valore politico-sociale, della manifestazione religiosa e da parte dei patrizi un torpido senso di responsabilità collettiva per ogni espressione di religiosità e di miscredenza individuale, un lungo inciso, e dicevo a forza di vedermi passare davanti queste espressioni, mi è venuto il desiderio, scrive Cozzi, di seguire la vita giuridica di questa magistratura di per sé stessa, di cogliere cioè il formarsi del diritto come componente, come mediazione, questa è l'unica parola che non sono riuscito a leggere, fra le leggi e quelle mutevoli esigenze di socialità, di moralità, di rispetto di certi valori che la folla dei governati inconsciamente spesso continua a praticare, quindi ecco il riferimento a quello, come dire, quello che era un semplice veicolo per contestualizzare diciamo le riflessioni le riflessioni di Sarpi, nel quotidiano lavoro d'archivio diventa quello che sarà poi uno degli obiettivi diciamo nella sua ricerca in senso lato, ecco e appunto erano concetti analoghi peraltro a quelli che già un anno prima, proprio agli inizi del suo lavoro come archivista volontario ai frari, aveva esposto a Bognetti, dicevo ieri Gino Benzoni è stato lievemente impreciso Cozzi si è laureato con Besta e Bognetti che era il collega, l'allievo diretto, il collega di Besta era quanto più anziano di lui, ecco ma ha subito stabilito con lui un rapporto molto stretto ecco, scrivendo a Bognetti nel 51, no? A Bognetti che era già divenuto il suo punto di riferimento, cerco di applicare un metodo che cuvo da molto tempo, cioè voglio cogliere il carattere e la sensibilità giuridica di una magistratura dal rapporto fra le leggi e la loro applicazione riflessa nelle sentenze. Ecco, adesso non posso e non voglio dilungarmi ma risalendo all'indietro si trovano tracce di questo atteggiamento già nella tesi, ecco di questo orientamento che è anche Bognettiano, no? Poi parlerò anche specificamente di Bognetti, no? Quindi il superamento del tecnicismo definitorio, ecco, per cogliere i contraccolpi appunto della norma nel cuore degli uomini. Questo è Bognetti, compito dello storico del diritto è cogliere lo svolgimento del diritto, ecco, e cozzichiosa nella tesi, l'interesse di Sarpi nella storia del diritto è più che nelle singole tesi nell'intensità del contenuto etico-religioso, quindi in qualche cosa che trascende l'aspetto della norma, diciamo così, ecco. La tematica poi, come sapete, resta latente appunto per tutto il decennio, ecco, e ancora agli anni Sessanta scrive all'inizio degli anni Sessanta, la mia grande aspirazione in campo scientifico è quella di poter riprendere finalmente i lavori sul processo criminale che sono stati il primo campo delle mie ricerche archivistiche. Avevo cominciato a interessarmene come storico del diritto, poi ad agio ad agio la realtà umana del processo e i problemi politico-religiosi ed economici che vi riecheggiano hanno preso il sopravvento. Ecco, quindi questo è un pochino il nodo iniziale. Ecco, qui interessa naturalmente, come dire, l'articolarsi lungo tutto il decennio del rapporto fra quello che non esito a definire l'allievo Cozzi e il maestro Cantimori. Cantimori, lui sottopone ogni testo ricevendo apprezzamenti, lo chiama incitatore e animatore affettuoso dei miei studi, gli chiede di continuare a seguirmi col suo consiglio in questa prima fase di esperienza nel campo degli studi. Ecco, questo si proietta praticamente in tutti i campi dell'attività di ricerca di Cozzi negli anni 50, quindi quello che trova nell'archivio privato Donà delle Rose e nelle biblioteche londinesi, i controlli e le ricerche che Cantimori chiede a Cozzi, assistito talvolta da Berengo di compiere per suo conto ai frari, l'avanzamento delle trascrizioni dei testi sarpiani che in alcuni casi Cozzi aveva cominciato con Ruggero Romano e Contenenti, i quali poi gettano la spugna, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci sono veramente tutti gli aspetti che sono rispecchiati. Ecco, Cantimori nel 1956 scrive a Cozzi che il mio merito, nei suoi confronti, perché si davano ancora di lei, sta nell'averla fatta conoscere, è quello di uno stampatore o se preferisce di un amplificatore. Ecco, questa parola dell'amplificatore è interessante perché lo fu anche in senso proprio. Il 21 gennaio 1959 Cantimori, che parlava sul terzo programma della RAI, parla di il convegno di studio di storia della Chiesa in Italia, il saggio su Machiavelli di Gennaro Sasso e quello di Gaetano Cozzi sul codice Niccolò Contarini. Poi nel 1960 è Cantimori che stende la relazione per il conferimento a Cozzi del premio a città di Bologna, del quale anche ieri appunto Gino Benzoni faceva cenno, nella quale relazione, appunto come scrive lo stesso Cozzi, si inquadrava molto finemente con questo momento degli studi storici italiani e si collocava lì dentro con dignità e con onore e con garbo magnifici. È una lettera molto bella in cui dice, beh, sono contento che almeno lì non c'erano né tonache nere né tonache rosse. Insomma, ci sono tutti questi aspetti, diciamo così, che fanno l'uomo e che sono elementi costitutivi della sua cultura. Ecco, questo, ripeto, ci insisto un attimo, perché l'insediamento di un giovane poco più che trentenne, estraneo alle scuole e agli schieramenti politico-storiografici dominanti, il suo inserimento nel network delle relazioni accademiche fra gli studiosi italiani di storia medievale moderna, è praticamente immediato ed avviene per merito di Cantimori. Gli consente subito di interloquire con sicurezza non solo con i giovani amici che gravitavano su Venezia, Tenenti, Romano, Berengo, ma più in generale con tutto l'ambiente degli storici italiani di varia specializzazione, Chabot, Romeo, Sestan, Bruno Nardi, al quale Cozzi propone in prima battuta l'edizione dei pensieri di Paolo Sarpi. Inoltre è grazie alla presentazione di Cantimori che Nino Valeri propone a un giovane trentacinquenne che sino allora aveva scritto un articolo di collaborare alla prima storia di Italia Utet, quella della seconda metà degli anni 50, con un articolo sulla controriforma. Poi l'articolo non viene scritto, però il fatto in sé è significativo. Ecco, questo è appunto il riferimento alle cose che citavo un attimo fa. Accenno lì all'esperienza in Inghilterra. Non è banale che un giovane storico modernista italiano, fra l'altro appunto disabile, vada ripetutamente a partire dal 55 in Inghilterra a confrontarsi con gli storici locali e a fare ricerche di prima mano. Per esempio, fra le tante cose, emerge dalla recensione di Roberto Abbondanza all'edizione del De Faccionibus Extinguendis del Barozzi, che fu Cozzi a trovare il manoscritto, poi passato a Franco Gaeta e pubblicato. Quindi, ripeto, anche questo è un elemento, diciamo così, della sprovincializzazione, dell'apertura culturale che è veramente significativa. Ecco, di questo ambiente, di queste vicende degli anni 50, mi piace ricordarne anche un'altra. Ecco, fra gli estimatori di Cozzi ci sono, direi senza eccezioni, anche gli esponenti della storiografia cattolica recente, Iedin, recentissima, Paolo Prodi, e anche della vecchia guardia, Pontieri e Picotti, cose così che non erano del tutto scontate. Ecco, Cozzi manifesta diciamo devozione per De Luca, anche se non ho trovato tracce precise. De Luca faceva parte del board dell'istituto per la storia della società veneziana della Fondazione Cini. Ecco, ma come dicevamo anche ieri, parlando con qualcuno, ecco, a me hanno colpito queste vicende. Voglio dire, passi, che lo tratti bene Cinzio Violante, che era un volpone accademico di prima forza. Passi, anche Don Piero Zerbi, Zerbi era appunto uomo della cattolica a tutti gli effetti, però cattolico liberale che aveva appunto, però che uno all'antica, come Michele Maccarrone, quintessenza della vaticanità, scriva ancora una volta, cito, ancora una volta ho ammirato la sua altezza d'animo di fronte alla vita e alle sue dure prove. Ecco, è una cosa che ha, diciamo, da un certo punto di vista, conforta sulla apertura mentale appunto degli storici cattolici che devono avere una certa corazza, ma almeno in alcuni casi, in alcuni momenti sanno andare al di là. Ecco, è certo ci sarà anche forse la pietà per il disabile, però credo che appunto si colga l'apprezzamento per l'inquietudine che pure era anche di carattere religioso, che pure era presente in Cozzi. Ecco, un altro elemento appunto che voglio ricordare della formazione di Cozzi che emerge abbastanza bene dai carteggi e, come dire, il consolidamento, l'apprendistato di carattere filologico. Qui il ruolo di Folena è decisivo. Folena era diventato molto presto direttore per la morte di uno storico del teatro che adesso non ricordo, di uno degli istituti della fondazione Cini. Ecco, è anche esplicitato in qualche modo nelle prefazioni. Ecco, ma la sua mano nella, diciamo così, addestrare, avviare Cozzi e poi anche Luisa Cozzi ad una filologia rigorosa credo che si veda appunto in modo molto preciso, diciamo. Ecco, vorrei chiudere questa parte del mio intervento con un senno alla dimensione umana del rapporto fra Cozzi e Cantimori. Ecco, Cozzi si confida e si racconta volentieri anche a proposito dei suoi problemi di vita quotidiana, degli accompagnatori, delle terapie. Ecco, Cantimori non scrive a caso di solidarietà fraterna, non a caso si propone di fare qualcosa per farle sentire l'affetto che le porto. Sono relazioni di amicizia che coinvolgono le famiglie. Il carteggio Cantimori comprende alcune lettere di Vittoria Cozzi, la sorella di Gaetano, alla quale lo studioso romagnolo procura lavori di traduzione grazie alle sue relazioni con gli editori Sansoni e dei Naudi. Ecco, e c'è una lettera simpatica nella quale l'amicizia è cementata da alcune bottiglie di vino apprezzato da entrambi, donate da Cantimori a Cozzi. Ecco, questa è una foto che c'è già nel volumetto del 2007 e appunto è testimonia, come dire, di questo interesse di Cozzi, ecco, anche per questi aspetti della vita. Ecco, passo adesso a qualche ragionamento, elemento ancora sulla relazione con Giampiero Bognetti. Come ha accennato, è scrivendo a Bognetti che Cozzi racconta per la prima volta delle sue ricerche nell'archivio di Stato di Venezia nei fondi dei consultori in Iure e degli esecutori alla bestemmia nel giugno del 51. Ecco, il fatto che nelle settimane immediatamente successive Bognetti venga a Venezia allo scopo di visitare Cozzi ricoverato all'opera Pia Giustiniani, si recchia Torcello e faccia, cito, una scappata a Vicenza di due o tre ore a scopo archeologico, è una cosa, diciamo, in sé interessante, dice tutto sommato qualcosa di nuovo e di più risalente, non solo a proposito della loro amicizia che era nata a Milano, che era nata nell'Istituto di Storia del Diritto di Milano, ecco, ma anche tutto sommato rispetto agli interessi di Bognetti per la Regione Veneta e le premesse del suo impegno alla Cini nel 55, ecco, e anche appunto in prospettiva la grande vicenda appunto degli scavi di Torcello che anche ieri sono stati ricordati. Ecco, Cozzi più volte testimoniò il suo debito metodologico originario nei confronti dello storico del diritto milanese, cito, impetuoso, geniale, fantasioso per quella sua capacità di intuire gli sviluppi potenziali del principio giuridico, del formarsi del diritto appunto come punto di mediazione fra le leggi e quelle mutevoli esigenze di socialità, di moralità, di rispetto che la folla dei governati, è una citazione che ho già fatto, continua a praticare. Una delle dote di Bognetti, in effetti dote che lui applicava tanto alla storia degli istituti giuridici quanto all'archeologia, era questa capacità di immaginare conseguenzialmente. Besta diceva a quel ragazzo ti trova un chiodo e ci vede un edificio. Ecco, cioè aveva questa, come dire, capacità di... ecco, di... ecco... e... e... appunto... il carteggio fra i due è abbastanza scarno, anche se ci sono appunto molti... scende indiretti nelle lettere a Cantimori, no? Ecco, emerge una affettuosa devozione, sono parole di Cozzi, perché a lui e all'eletta memoria di Enrico Besta, debbo, se ho potuto, dedicare agli studi una vita altrimenti assorbita da ben diverso destino. Questo è nella premessa del Niccolò Contarini. Ecco. Ci fu anche qualche divergenza di vedute. Bognetti aveva la fissa della divulgazione, insomma, obbligava Cozzi a fare conferenze divulgative che lui non aveva voglia di fare. discutono, avrebbe voluto chiamare la rivista Pagine di Storia Veneziana, quello che poi è stato un pesantissimo titolo, bollettino dell'Istituto per la Società e lo Stato Veneziano, che poi è diventato, come ricordava ieri Gino Benzoni, gli studi... gli studi... gli studi... gli studi... gli studi veneziani. Ecco. Il ruolo di Bognetti fu molto importante, questo lo dice Cozzi appunto con grande chiarezza, no? Ecco. Di fronte all'ostilità degli ambienti culturali veneziani per la Cini, parzialmente superata, secondo quanto lui stesso racconta, grazie solo al prestigio e alle capacità di mediazione di Gino Luzzatto. Ecco, e appunto c'è questa fase in cui appunto il cattolico conservatore Bognetti, con anche credo altri elementi del comitato scientifico della fondazione, è una banalità, ecco, ma ci sono tutti i principali storici del diritto italiano, tutti, ecco. C'è un vecchio campione della storiografia erudita come Picotti, c'è De Luca, ecco. E poi c'è, come dire, c'è Calasso, c'è Morci, c'è Fiorelli, insomma, c'è veramente appunto un mondo che sembra artificialmente in qualche modo portato a Venezia. Ecco, e adesso che qui non mi dilungo, in questo caso non è il vino ma il tabacco il punto di, come dire, di riferimento, no? Il pegno dell'amicizia, lo ricordava ieri anche Gino Benzoni, Bognetti andava a Lugano a parlare alla radio della Svizzera italiana, comprava questo pregiatissimo tabacco inglese da pipa che veniva poi spartito appunto fra due fumatori, credo anche Cozzi che fosse abbastanza un fumatore incallito per un certo arco di tempo almeno, ecco, e luzzato, ecco, e di questo appunto c'è precisa memoria. Lui, cattolico conservatore, scrive Cozzi nella commemorazione di Bognetti, amava associare sorridendo me e luzzato nelle posizioni ideologiche e in questo gusto di fumatori, ecco. Ci sono anche altri episodi significativi, no? Berengo che deve prendere la libera docenza attraverso Bognetti, scrive a Cozzi, scrive a Bognetti, non ha ancora cominciato a scrivere l'articolo, era l'articolo sui grigioni, c'è un articolo di 150 pagine, lo farò nei prossimi due mesi, però a settembre sarà pronto, ecco, ed esce infatti in effetti con molta tempestività, ecco. Quindi ci sono anche queste piccole vicende, queste piccole vicende accademiche. Ecco qui Bognetti e Cozzi in due foto, come dire, più o meno contemporanee dove si vede appunto il diverso aplomb delle persone, diciamo. Ecco, passo a quello che è l'ultimo punto sostanziale del mio discorso. Nella prima metà degli anni 50 Cozzi aveva pubblicato solo sull'archivio storico Lombardo, su riviste che già è ardito definire di nicchia come il diritto ecclesiastico, sulla rassegna degli archivi di Stato. Ecco, nel 1956 uscirono i due suoi primi contributi sulla rivista storica italiana, uno su Traiano Boccalini e l'altro più ampio e impegnativo su Paolo Sarpi, l'anglicanesimo e la storia del concilio tridentino. Cantimori definisce questo articolo elegante e solido nello stesso tempo, come capita poche volte di leggere. Sa, mi viene da pensare come ne sarebbe stato lieto il croce se avesse potuto leggerlo, non solo per la solidissima erudizione, ma anche per l'eleganza della esposizione. Credo che non si possa dire di meglio, perché una delle grandi doti di Dozzi di Cozzi è veramente questa scrittura limpida, straordinaria, che se avete letto questi passi anche in queste lettere, diciamo così, non so come dire, forbita, elegante e familiare nello stesso tempo. Ecco, di ognuno di questi saggi si potrebbe fare un po' di storia interna ed esterna, appunto, seguendo il carteggio Cantimori. Per spiegare l'insieme delle ricerche di Cozzi degli anni, fra il 1953 e il 1958, sui più autorevoli modernisti italiani, e anche, parentesi, per mostrare quanto sbaglia Galasso quando cita De Caprari, se come è possibile termine di paragone per Cozzi, per spiegare questo, dicevo, si può partire da alcuni passi delle lettere di Cozzi a Franco Venturi, col quale ha minor confidenza, e scrivendo al quale si esprime forse in un modo più meditato rispetto a quando si indirizza a Cantimori. Lei mi parla, a proposito del mio lavoro e dell'articolo su Sarpi, di sforzo per giungere agli uomini, alle loro azioni e passioni. È davvero il mio intento e la mia ambizione segreta. Può immaginare dunque, se non mi abbia fatto piacere, il sentire che lei l'ha riconosciuto e la prova. E poi, ecco, ancora quest'altra citazione, che vi lascio leggere senza citarla ulteriormente, che è, a mio parere, abbastanza significativa. In effetti è la biografia che ha il maggiore impatto. Bognetti gli suggeriva come titolo Niccolò Contarini, doge e storiografo. Cozzi, nell'intento di assumere, cito, la figura di Niccolò Contarini a simbolo, non è forse la parola adatta, dice lui stesso, di un'epoca e della società patrizia che vi operò, proponeva significativamente, come sottotitolo, in cerca del patriziato veneziano, quindi qualcosa di più aperto, in qualche modo, ecco, in cerca del patriziato veneziano, che poi appunto fu sostituito da una cosa un po' più anodina, ricerche sul patriziato veneziano agli inizi del Seicento. Il mio intento più profondo, scrive ancora Cozzi, è illuminare la fisionomia politica e religiosa del patriziato veneziano. Ecco, si sa che forse, lo ha scritto Cozzi stesso, sono le condizioni nelle quali questo libro fu dettato, non scritto, ecco, se, come dire, noquero a qualche punto di esattezza, ebbero però forse il vantaggio di, come dire, di obbligare a una sintesi, a una freschezza espositiva che altrimenti forse non sarebbe stato d'aggiunto. Ecco, lui aveva accumulato a lungo notizie sul personaggio, che alla fine prende corpo e assume una fisionomia che mi era umanamente cara. Ecco, è un'anima inquieta e severa con la quale si sente in sintonia. Ecco, come scrisse Cozzi, riconoscendo l'impianto sostanzialmente crociano della biografia contariniana, con in più una vena di religiosità emergente con discrezione, ma con genuino timbro di religiosità, ecco, dal Contarini usciva mutata e nuova l'immagine solenne e concorde del patriziato veneziano. Quella che ispira Cozzi è un'idea di storia politica complessa ma chiara, attenta alla dimensione prosopografica e, insieme e altrettanto, alle vicende dei gruppi in cui ogni classe e ogni ceto si presenta distinto. Ecco, a questo proposito va richiamata la contestuale uscita di altre due monografie che anch'esse contribuiscono a picconare metaforicamente il mito cessiano del patriziato concorde, del patriziato veneziano. Qualche anno fa ho scritto una breve commemorazione di Federico Seneca, mio lontano predecessore per 42 anni nella presidenza della deputazione. Ecco, e ho notato, ecco, non si può non notarlo, ecco, il salto di qualità fra la prima monografia di Seneca, la politica veneziana dopo l'interdetto del 57, dalla prima, dalla biografia poi di Leonardo Donat che è del 58-59. Della prima è protagonista la Stratta Repubblica, gli impersonali veneziani, l'imperscrutabile governo, con scarsissimi o nulli riferimenti alla diversità di posizioni e alle dialettiche interne al patriziato, no? Ecco, ai pareri dei singoli, a quella vita, diciamo, culturale che c'era e come. Ecco, nel secondo libro, appunto, due anni più tardi, non so se anche forse per l'impulso della recente monografia di Cozzi in qualche modo, troviamo invece un uomo in carne ed ossa, ecco, una persona, ecco, ed è uno dei migliori, credo, libri di Seneca. Fra l'altro quello della necessità dell'incremento degli studi biografici è l'osservazione che fa Ernesto Sestan recensendo la terza grande monografia patrizia di quegli anni, no? Che è quella di Giovanni Tabacco che prima di abbandonare Trieste, no? Ecco, sono delle lettere molto belle di Tabacco a San Vin, ecco, nelle quali, appunto, spiega con quanta circospezione si muovesse nell'ambiente veneziano, diciamo, ecco. Però, è come dire, si va esattamente, appunto, nella stessa, nella stessa direzione. Ecco, la copertina di Andrea Tron non l'ho trovata, ho messo Andrea Tron e pazienza. Ecco, l'ultimissimo punto, ecco, gli anni 60 e i rapporti con Saitta. L'attività didattica di Cessi inizione 60, con l'incarico a Ca' Foscari, e divenne presto un impegno molto assorbente, se non proprio una ragione di vita. Insegnò per alcuni anni anche storia medievale, affrontando temi, come dire, piuttosto hard per studenti di lingue, come, con legittima preoccupazione del Presidente Mitner, come le origini dello Stato della Chiesa. Ecco, peraltro, molto coerenti col suo percorso, perché eravamo nella fase, nella fase sarpiana, ecco, nella fase degli uscocchi, eccetera. Ecco, devo dire che non si contano nelle sue lettere di questi anni i riferimenti ai corsi e alla loro preparazione, alle dispense, alla prima attività seminariale svolta con gli studenti di scienze politiche di Padova. C'è un episodio estremamente interessante. Dopo il primo anno di insegnamento a scienze politiche a Padova, mi pare, 66-67, rifiuta una prima occasione di trasferimento a Ca' Foscari. Perché? Perché dice, quest'anno mi sono coltivato 12 studenti, gli altri non so dove fossero finiti, ma ecco, e dice, non voglio lasciarli a metà, voglio portare avanti un percorso con loro. Quindi, insomma, non è rituale questa, lo sapete, molti di voi lo sanno per esperienza diretta, insomma, l'impegno didattico proprio dal momento in cui comincia nel 60 è una cosa appunto assorbente e significativa, no? Ecco. E peraltro, appunto, matura proprio in quegli anni l'esigenza di una sistemazione e ne consegue la necessità di entrare in giochi accademici e concorsuali rispetto ai quali, pur avendo acquisito la libera docenza in storia della Chiesa, Cozzi aveva ostentato abbastanza a lungo una certa aristocratica sprezzatura, diciamo, no? Ecco. E invece poi, appunto, il rapporto con Sa' Itta non è solo questo, ci sono anche aspetti di contenuto, alcuni lavori che propone a critica storica, quindi non è solo accademia. Ecco. Peraltro, Sa' Itta stesso diceva che accademicamente il peggior nemico di Cozzi era Cozzi, ecco, e lui grande tessitore di concorsi, ecco, e in una lunga fase lo ha appunto veramente sostenuto, forse anche perché sentiva dei sensi di colpa, appunto, qualche anno fa quando sono andato banalmente a vedere gli atti del concorso nel quale andarono in ballottaggio per il terzo posto interno, Cozzi e Seneca, vinse Seneca 4 a 1, con giudizi, appunto, interessanti considerata, diciamo, la cultura dei giudici, che era una discreta commissione, ecco, quindi ci sono, credo, diversi elementi che, come dire, non è gossip o pettegolezzo accademico a ricordare. Fanno parte anche questi della vita e devo dire, appunto, in questi anni il Cozzi, che originariamente sembrava disinteressato a questi aspetti, diventa in certi tratti ansioso rispetto a questi problemi. Non tanto per i due concorsi perduti, quello del 64 di Storia Moderna, che è quello che ho appena citato, e l'altro di Storia della Chiesa, dove c'è Violante e Cantimore in commissione che lo sostengono, concorso che poi vince Giuseppe Alberigo, no? Ecco, quanto anche e soprattutto, una volta ottenuta la cattedra, per la sistemazione, no? Ecco, adesso qui sto riassumendo e chiudo, no? Ecco, ma, appunto, si passano in rassegna tutte le sedi possibili, va a un pelo dal trasferirsi a Bologna, dove Arnaldi voleva sdoppiare la cattedra di Storia Medivale per proporla a Cozzi. E poi Pisa, Saitta gli propone una cattedra di Storia della Chiesa a Pisa. Ecco, c'è una gamma di possibilità che poi, appunto, si risolve, c'era stato il notissimo diniego dei Padovani, no? Con l'area di lettere dell'istituto, che era ancora di cessi, anche se in realtà chi lo governava ormai non era più cessi, e poi si apre la possibilità di scienze politiche e lì comincia, appunto, un'altra storia. Ecco, ho un po' sforato, ma mi piace. Ecco, ho finito. Ringrazio Gian Maria Varanini per questa ricchissima, densissima relazione su questo apprendistato storiografico, a me sembra qualcosa di più di appunti, se mi posso permettere. Sono le 10.10, potrebbe esserci una pausa, oppure facciamo salire sul palco il secondo relatore. Attendo istruzioni. Arrivano. Secondo, perfetto, grazie Luciano. Allora, Marco Cavarzare, insegna per esso l'Ateneo Veneziano, è diventato uno dei nostri giovani colleghi, ma molto esperto con formazione moralista, con formazione anche all'estero, docenza anche all'estero, interessi nella storia culturale, storia delle istituzioni religiose, fra appunto i suoi interessi. A lui la relazione dal titolo Stato e Chiesa. Innanzitutto ringrazio moltissimo Luciano Pezzolo per questo invito. Il mio primo convegno a Venezia, da Veneziano, diciamo così, da adozione e quindi per me è un piacere particolare. Grazie Sandra per la presentazione. Diciamo che questo intervento sarà un intervento un po' diverso da quelli che sono stati fatti finora e da quello che soprattutto mi ha preceduto. Diverso nel senso che io, appunto, anche per motivi generazionali non parlerò tanto del del Cozzi Uomo, che non ho mai conosciuto, e sarà anche un intervento di carattere più generale, più schematico anche per motivi, per economia del discorso. Volevo parlare oggi, appunto partire dal caso Cozzi e dalla sua opera storiografica per cercare un po' di ricostruire tutta una stagione storiografica del dopoguerra, sui rapporti tra Stato e Chiesa, e da lì partire per cercare di capire come questo problema dei rapporti di Stato e Chiesa, problema che oggi è un po' svanito dall'orizzonte storiografico, attenuato nell'interesse degli studiosi, come questo tema possa essere studiato nel ventunesimo secolo, quindi con un quadro di riferimento completamente diverso da quello che animava, in cui si ponevano Cozzi e altri storici del secondo dopoguerra, come questo tema del rapporto di Stato e Chiesa possa essere studiato anche partendo appunto dalla lezione cozziana, cioè l'eredità del grande studioso è l'ascito anche metodologico e la vitalità metodologica della lezione di Cozzi e quindi questo mio intervento si svolgerà in tre parti, una prima parte in cui parlerò di Cozzi e di come affrontava il rapporto tra Stato e Chiesa, parlerò poi per sommi capi, di questo mi scuso per la mia schematicità che sarà un po' rozza, del panorama storiografico nel secondo dopoguerra, di come si affrontava la questione Stato, la questione Chiesa dagli anni Sessanta in poi, diciamo così, e si arriverà appunto, arriverò nell'ultima parte a duncleare alcune osservazioni, alcune proposte per vedere come si potrebbe continuare a studiare i rapporti tra Stato e Chiesa a distanza di anni. Naturalmente questo, quando si fa queste ricostruzioni storiografiche, l'elemento personale è molto forte, nel senso che sono le mie letture quello che io recepisco e naturalmente una visione appunto semplice, questo elemento generazionale di chi, diciamo, vede le questioni dei rapporti di Stato-Chiesa come calor di fiamma lontana, che non ha vissuto in prima persona la contrapposizione anche ideologica di uomini, di idee politiche di quegli anni. E quindi, diciamo così, con questi caveat vorrei incominciare proprio parlando di Cozzi. Già ieri, appunto, Gino Benzoni ha sottolineato questo elemento della nascita di Cozzi negli anni venti, appunto. Cozzi nasce il 15 settembre 1922, un mese e mezzo prima della marcia su Roma e condivide tutta un, sicuramente un'impostazione con tutta una serie di studiosi degli anni venti e degli anni trenta, studiosi che vissero in prima persona il concordato, quindi la fine della scissione tra Stato e Chiesa e soprattutto la lunga stagione, diciamo così, dei governi democristiani, dei governi che avevano la benedizione diretta del Vaticano. E' ovvio che il tema di fondo di molti uomini di questa stagione era la questione del perché la Chiesa aveva vinto e perché invece tutti i tentativi di riforma che c'erano stati nella storia d'Italia erano falliti. Diciamo, era un leitmotiv di molta di questi studiosi e di questa generazione. Cozzi era un tema che si vede molto chiaramente soprattutto nella prima produzione degli anni 50 e degli anni 60. Come il professor Varanini ha già spiegato, appunto, erano gli anni in cui Cozzi proprio stava, diciamo così, tra la storia moderna e la storia della Chiesa, storia moderna nel senso più ampio e storia della Chiesa. Tant'è che il primo passo nello suo carriero universitario penso che sia stato proprio una libera docenza di storia della Chiesa. E in queste sia la biografia di Niccolò Contarini sia i lavori su Sarpi avevano naturalmente come sfondo appunto questo momento in cui sembrava che fosse possibile creare un governo che fosse libero da compromessi ecclesiastici, libero dal gioco della Chiesa, in cui non era un caso che Cozzi sceglieva due figure in cui si autoriconosceva, in cui vedeva una forte levatura morale. Il rigore morale di Niccolò Contarini e il rigore morale di Sarpi. Ma sullo sfondo vi era per l'appunto questo elemento di come questo governo dei giovani avrebbero potuto instaurare un governo che poi non fallì. E naturalmente sullo sfondo di tutto questo, della riforma mancata, della rivoluzione mancata, c'erano le letture che Cozzi stesso riconosce, le letture di Gobetti, le letture di Omodeo, di tutta una cultura che vedeva come un elemento spartiaco appunto questo, il, vedeva la storia d'Italia sotto questo, sotto questa chiave di mancanza, di mancanza di qualcosa. Questo elemento del, dei rapporti stato chiesa è molto molto presente appunto in questa stagione tra gli anni 50 e 60. Ma rimane un filo rosso che lega tutta la produzione di Cozzi. Se noi guardiamo anche la produzione successiva cambia la prospettiva ma la questione rimane centrale. Negli anni 70 uno degli elementi più interessanti della produzione cozziana riguarda appunto la questione dei matrimoni e la questione del divorzio che si lega in maniera proprio palmare con le battaglie, con le battaglie che si stavano svolgendo in quegli anni, battaglie politiche sul referendum del divorzio del 1974 e che poi portarono appunto a vari o due o tre articoli nel 1976 poi nel 1981 per gli annali dell'istituto storico italo-germanico in Trento e così via. Così anche nella fase diciamo così postrema di Cozzi rimane l'elemento, l'elemento vitale, lo sguardo verso le cose di chiesa. Negli anni 90 alcuni dei suoi ultimi articoli sono sul primicerio di San Marco e sulla questione della chiesa marciana. Naturalmente a me pare chiaro che ci sia diciamo in qualche modo una spaccatura. C'è una certa diversità di prospettiva tra gli scritti degli anni 50 e 60 e questi ultimi scritti degli anni 70 e 90, diciamo così 80-90. Nel senso che è ovvio che quando si leggono questi scritti sul matrimonio e questi sul primicereato di San Marco, la prospettiva, l'elemento ecclesiastico rimane un po' di sottofondo mentre al centro vi sono i nuovi interessi molto forti di Cozzi sul pluralismo istituzionale diciamo così della Repubblica di Venezia. Anche gli studi sul matrimonio sono gli studi sulla concorrenza sui vari organismi che a Venezia si occupano di matrimonio, esecutori alla vestemmia, la vogaria eccetera. Così per il primicerato non si occupa tanto diciamo così di come il primicerio gestiva la chiesa di Venezia, gestiva la chiesa dogale e i pochi benefici su cui il primicerio aveva giurisdizione, ma si occupa per l'appunto dei conflitti tra i procuratori di San Marco e il Doge su come appunto la complessità politica istituzionale di Venezia si rifletteva anche nella gestione di questi aspetti sacri e ecclesiastici. sullo sfondo tuttavia rimane un elemento diciamo così fondamentale che è anche qui l'idea che a Venezia si sarebbe potuto, come lo spiegava Sarpi, si sarebbe potuto costruire una chiesa alla greca, una chiesa in cui il principe avrebbe potuto avere un ruolo diciamo così di primaria importanza in cui appunto il papato romano avrebbe fatto sentire soltanto una eco indistinta e lontana. Questa era la diciamo così come ho visto in dieci minuti in maniera molto 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 rapida quello che Cozzi diciamo aveva prodotto, però diciamo questa visione cozziana si inserisce all'interno di tutto un discorso di una generazione, una generazione che aveva sperimentato il fallimento dello stato nazione che aveva, che era sfociato nel totalitarismo e che aveva visto invece l'unico totalitarismo che era sopravvissuto era il papato e naturalmente chiamare totalitarismo il papato non è una mia buttada polemica ma è una citazione di un di più undicesimo stesso che sembra che in un'udienza privata negli anni trenta disse ma non capisco per quale motivo nazionalsocialismo e fascismo li chiamino totalitarismo se c'è proprio da parlare di qualche totalitarismo l'unico totalitarismo che veramente può chiamarsi tale è quello naturalmente della chiesa cattolica romana e da questo punto di vista prendendo diciamo così come punto di partenza queste riflessioni diventa chiaro perché si studiò nel dopoguerra chiese e stato in maniera in qualche modo diversa io volevo chiamare questo questo mio contributo come tra stato e chiesa un binomio sbilanciato e qui scusate ancora la semplificazione assoluta però se si guarda diciamo così la storiografia italiana della scuola del 1900 vediamo come da una parte la storiografia sullo stato si coniughi sotto il segno del pluralismo e della pluralità mentre la storiografia sulla chiesa diciamo così tenga a sottolineare la forte capacità centralizzatrice del papato e della chiesa di Roma vediamo più in concreto naturalmente quando si parla di una delle grandi risultati della storiografia appunto degli ultimi 40 50 anni di cui Cozzi di questa stagione Cozzi fu senz'altro protagonista assoluto e la questione appunto che lo stato moderno in realtà appunto si pone sotto una pluralità è costituito nella pluralità di ordinamenti il diritto veneto nella dominante il loius comune nella terraferma gli iura propria dei vari corpi istituzionali verso il tentativo fallito una sostanza di creare uno gius patrum di questi stati italiani e così via una moltiplicazione di corpi che crea una pluralità di potestà all'interno degli vari stati la stagione degli ultimi anni sono stati molto fecondi per gli studi sul feudalesimo che non è fenomeno soltanto diciamo così dell'Italia del sud ma è un fenomeno diciamo così io direi paneuropeo non soltanto italiano uno degli studi appunto di Cozzi per mantenerci sul tema stato e chiesa uno degli studi che a me ha più colpito appunto è quello sulla questione di Ceneda del vescovo conte di Ceneda una questione che tra il 1550 e il 1620 in buona sostanza occupa Venezia con la presenza appunto di un vescovo che non voleva cedere nelle sue pretese di autonomia di autonomia a Venezia rispetto a tutto questo diciamo così gli studi sullo stato e sulla chiesa diciamo per fare un parallelo rozzo da una parte il pluralismo degli ordinamenti dall'altra parte abbiamo il corpus iuris canonici che viene canonizzato e sistematizzato nel 1580 da Gregorio XIII da una parte questo pluralismo di potestà e dall'altra la riforma delle congregazioni cardinalizie del 1588 consisto quinto che svuota il senato cardinalizio appunto nella sua funzione di senato nella chiesa a funzione di consesso di burocrati che aiutano in funzione ministeriale il papato e naturalmente quel bellissimo libro di Paolo Prodi l'idea del sofrano pontefice cioè che l'unico stato moderno veramente in Italia fu quello della chiesa lo stato della chiesa dove i chierici potevano essere processati dai tribunali secolari dove i chierici potevano pagare le tasse e così via naturalmente io questo schema è veramente troppo rozzo e naturalmente di fronte anche al professor Varanini così e qui a Venezia non posso ricordare che ci fu in realtà un forte tentativo di unire questi stati i nuovi studi sullo stato e le visioni della chiesa e qui faccio solo un nome diciamo che è quello di Giorgio Chittolini e di tutta la sua scuola e di tutto quelle persone che tra gli anni 70 e gli anni 80 appunto studiarono anche appunto le chiese locali i corpi locali come le strutture e le istituzioni ecclesiastiche cooperarono in maniera attiva alla formazione diciamo così dei nuovi stati regionali quindi questi tentativi naturalmente questa lasciatemi questa schematicità per economia del discorso ma in realtà le cose sono molto più complesse e sfumate di quanto io oggi in questa esposizione orale possa fare e tuttavia lo stesso Chittolini in un saggio dei primi anni 2000 continuava a sottolineare un elemento che pur nella diciamo pletora di studi che hanno appunto che nascevano rampollavano da queste da questa nuova visione dello Stato moderno diciamo così questo elemento che rimane imprescindibile rimane per chi studia la storia d'Italia cioè la questione del papato naturalmente la questione del è ovvio che chi studia la storia della Chiesa per quanto sia sia interessato anche i corpi intermedi se volete così non possa fare altro che fare i conti con i rapporti tra centro e Roma e qui agisce ha agito per tanti anni per tanti decenni quello che Simon Ditchfield con visione britannica quindi esterna alle vicene italiane chiamava il paradigma sarpiano voi sapete che in una lettera in una lettera famosa a un giurista gallicano Jacques Le Chassier Sarpi chiamava il papato il totatus naturalmente non aveva niente a che fare con il totalitarismo il totatus che cos'era? omni abrogato ordine totum uni tribut scrive scrive Sarpi cioè abrogato ogni ordinamento perché ordo è un termine tecnico cioè abrogato il pluralismo giurisdizionale che esisteva in tutti gli altri stati il papato di Roma attribuì tutto il potere ogni giurisdizione a uno solo questa visione che naturalmente è una visione fortemente di battaglia di Sarpi del primo seicento in qualche modo la visione sarpiana però informò anche molte delle ricerche e quello che delle ricerche storiche della seconda metà del novecento e non fu soltanto un diciamo dalla parte puramente della storiografia diciamo così anticlericale risorgimentista e così via se noi guardiamo anche la grande stagione della storiografia sui vescovi che è la storiografia appunto abbiamo citato Alberigo e così primo Prodi eccetera la questione di fondo di questi studi era una questione sarpiana cioè era la questione con cui iniziava la storia del concilio di Trento la questione è che il concilio convocato per ristabilire il potere dei vescovi in realtà la ridusse in schiavitù in maggiore schiavitù e questi studi sugli episcopati e sui vescovi riformatori in realtà partono proprio da questo punto di vista cioè da come appunto questi vescovi tentarono una serie di riforme ma molto spesso appunto dovettero fare i conti con la zavorra romana che preferì difendere gli ordini religiosi tutta una serie di capitoli cattedrali e così via permettetemi di dopo questa appunto nella mia vaghezza di fare un esempio ancora più specifico è un caso che mi permetterà poi forse di passare all'ultima fase di questa mia relazione riguarda un'altra il rapporto diciamo tra diritto tridentino e questo paradigma sarpiano in un'altra lettera compulsando questo epistolario molto bello di Sarpi a Le Chassier Sarpi con questi gallicani lui si informava era una questione di si aggiornava cercava di anche di collocare la propria azione in un orizzonte più ampio e qui accusa questo il totato romano soprattutto di bloccare la creatività del diritto la creatività toglieva la facoltà ai giuristi di creare il diritto con facoltà che era la tipica facoltà appunto dei giuristi di età del diritto di età medievale questi avevano riscoperto tutto un diritto romano vecchio di mille anni e di fatto erano i giuristi che lo riattualizzavano nel mondo nuovo bene secondo Cozzi secondo Sarpi scusate la questione era questo divieto ricordava questo divieto del 1564 in cui Pio IV il Papa di allora aveva proibito l'interpretazione dei decreti del concilio di Trento secondo Cozzi questo era l'esempio di come avesse con questo atto impedito l'interpretazione giuridica da parte di giuristi e lui dice continua dice il dottore se gli iudici adesso devono stare con la bocca aperta quando arriva una una causa e ricorrere direttamente ai cardinali ai cardinali romani la questione questa impostazione di Sarpi viene ripresa in maniera molto puntuale da Paolo Prodi in un saggio bellissimo in un saggio bellissimo nei primi anni 70 in cui Prodi argomenta cita naturalmente Sarpi e argomenta oltre dicendo che infatti nel corpus iuris canonici non verrà inserito nel 1580 quando viene sistematizzato il corpus iuris canonici non verranno inseriti i decreti del concilio di Trento perché il corpus iuris canonici era naturalmente materia di studio nell'università e quindi di fatto necessariamente oggetto di gloss e commentari e così via quindi se si voleva sottrarre il concilio di Trento dall'interpretazione giurisprudenziale bisognava toglierlo dal corpus iuris canonici il saggio è bellissimo ma questa questa visione diciamo così prodiana secondo me era una visione che scontava moltissimo questo paradigma sarbiano e partiva da una serie da un'idea appunto della possibilità di un monopolio del diritto un'idea modernizzante diciamo così del diritto Prodi aveva ben chiaro un'obiezione che veniva già fatta allora cioè in realtà la mancata inserzione dei decreti trentini nel corpus iuris canonici era dovuto al fatto che alcune monarchie europee non avevano accettato i decreti del concilio di Trento tra cui la Francia quindi inserire nel corpus iuris canonici il decreti del concilio di Trento avrebbe significato togliere dalla circolazione l'edizione di riferimento del romana del corpus iuris dall'insegnamento di università importanti come Parigi ma c'era anche una questione diciamo così secondo me cronologica di fondo cioè si lavorò per creare un liber septimus del corpus iuris canonici fino all'inizio del seicento quindi 40-50 anni dopo questa proibizione di fatto questa proibizione non era il centro del problema come uscire quindi e però appunto agivano su tutti questi storici su tutta questa storografia agiva una petizione di principio che era fondata sulla questione storica di fondo e questo non è un male perché le questioni storiche appunto vengono dal presente devono essere sempre anacronistiche quindi un bene bisogna naturalmente evitare che questo anacronismo della domanda non corrisponda poi all'anacronismo della risposta allora e qui mi avvio a concludere in questa parte prospettica verso il futuro come uscire da questo sbilanciamento negli studi nei rapporti in studi tra Stato e in studi tra Chiesa naturalmente c'è un problema di fondo molto grave diciamo sempre passatemi questo paradosso oggi quasi nessuno studia lo Stato e quasi nessuno studia la Chiesa nel senso istituzionale nel senso che da una parte la stagione della grande stagione dello Stato moderno si è esaurita giustamente dall'altra parte ormai gli studi di storia globale hanno portato ad altri accenti si studia la storia degli imperi si studia la storia dei company state delle compagnie mercantili che hanno funzione giurisprudenziale nelle colonie rimane l'idea di questa negoziale dello Stato moderno come medium comparazioni cioè si studia come il pluralismo giuridico eccetera esistesse sia negli imperi africani come negli stati europei diciamo quindi rimane questo elemento ma gli interessi sono cambiati così per quanto riguarda la storia della Chiesa diciamo la stagione della storia istituzionale è venuta un po' mancando chi è che studia oggi i benefici questi elementi ma anche bisogna dire che anche la storia dell'inquisizione sta perdendo che una stagione che io in qualche modo ho vissuto sta venendo a mancare e anche qui la spinta globalizzatrice ci porta a studiare quindi le missioni quindi l'elemento più accomodante accomodatorio della Chiesa i riti cinesi eccetera oppure il dissenso anche qui è molto interessante perché la storiografia si è occupata da cantimori appunto gli eretici italiani eccetera eppure il dissenso viene qui adesso sempre più visto come l'agency l'agency del singolo individuo come prende l'elemento cristiano si studia l'ateismo eccetera quindi sono mutati in buona sostanza è mutato il quadro di riferimento sono mutati gli interessi e questo è tanto più che un'idea di totatus di un paradigma sarpiano non può più attirare in un mondo che invece si sforza di andare verso il pluralismo la fluidità e così via cosa fare dunque secondo me la lezione di Cozzi è da questo punto di vista molto valida per diciamo così ridare vitalità a questo campo di studi la lezione di Cozzi in che senso? in senso di vedere il groviglio di rapporti e soprattutto vedere andare ad analizzare il momento in cui l'ideale di giustizia diciamo gli grandi ideali si traducono in concretissimi rapporti di potere tra chi è giudicato tra chi giudica tra la società circostante se torno al caso che ho citato di questa lettera sarpiana e sul diritto tridentino diciamo così l'ideale è molto chiaro l'ideale è il passaggio appunto da un diritto giurisprudenziale a un monopolio del diritto in qualche modo monopolio del diritto gestito appunto dai nuovi poteri centrali e questo era una aspirazione non soltanto del papato era una aspirazione comunissima anche guardando gli scritti sarpiani scritti di Cozzi scusate questa confusione tra Sarpi e Cozzi che è probabilmente in re non soltanto nella mia mente nella Cozzi appunto ricorda come nel 1401 il maggior consiglio proibisca l'interpretazione degli statuti veneziani e la vogaria cancella le glosse esistenti e di fondo c'è lo stesso problema tant'è che gli statuti rimangono vi era una discussione per creare il libro settimo degli statuti e invece il libro sesto degli statuti di Venezia rimangono fermi all'inizio del Trecento esattamente come la decretalistica del corpus iuris canonici e Cozzi va avanti il suo discorso appunto è quello di mostrare come questa idea di un monopolio del diritto in realtà vada a contrapporsi contro la forza delle fonti tradizionali del diritto le consuetudini gli statuti e così via la stessa cosa si può vedere benissimo anche a Roma cioè si può applicare si può vedere esattamente questo momento anche se si guarda non soltanto ai corpi locali ma anche alla cura romana se noi guardiamo è vero che appunto la congregazione del concilio in buona sostanza non pubblicò mai una raccolta di decreti però il diritto continuava a venire detto anche a Roma e quindi via una proliferazione tra i Cinque e i Seicento di tutta una serie di letteratura che i tedeschi chiamerebbero letteratura pragmatica che di fatto però dava un diciamo circunnavigava il divieto il divieto romano e faceva il diritto sono le opere sono gli ordines judiciari in qualche modo anche i bollari che fissano i privilegi ma anche le pratiche dei fori vescovili pratiche di fori vescovili che sono tantissime che ebbero grandissimo successo che erano quelle cose che veramente avevano in mani i giudici ecclesiastici quando giudicavano e se voi leggete queste pratiche questa lettura non proprio amena diciamo di queste pratiche si vede come questi prendono le decisioni romane prendono le sentenze le sentenze locali e danno una propria interpretazione del diritto e propongono una propria interpretazione del diritto in buona sostanza l'esercizio di questa mia mezz'ora era proprio quello di vedere come diciamo le questioni appunto cambiano nel tempo cambiano a seconda delle proprie del momento delle proprie questioni politiche eccetera ma rimane questa forza metodologica e la grande insegnamento secondo me della lezione cozziana è appunto di vedere come l'ideale si può fare potere vi ringrazio la parola adesso è a Claudio Povolo parazzante anche dire mezza parola su Claudio Povolo mi permetto di dire assumendomene anche la responsabilità credo la persona che ha condiviso maggiormente il percorso del magistero appunto cozziano di Cozzi del professor Cozzi al presso appunto l'Ateneo Veneziano a lui la storia delle istituzioni bene grazie prego Claudio prima di cominciare volevo ricollegarmi a quanto ha detto Marco Cavazzi perché è importante si ricolle e anche a quello che Gian Maria Varanini aveva accennato anche se questo questa discresia chiamiamola cronologica prima e dopo gli studi stato a chiesa eccetera con Niccolò Contarini e tutto quello che viene dopo è effettivamente una una sorta di rottura una sorta di rottura Marco Cavazzi la accennava e io infatti qui nei miei appunti che ho preparato perché io ho già fatto due interventi su Cozzi uno è apparso Gaetano Cozzi ieri e oggi nella rivista non ricordo neanche più il nome ecco e poi ne ho parlato in un articolo in un capitolo del c'è stato nel 2004 un convegno ad Alghero sui diritti patri quello di cui si accennava un po' marginalmente da Marco Cavazel cioè ci siamo ritrovati tutti noi storici delle istituzioni a chiederci che cos'era in Sicilia in Sardegna Toscana ma anche Francia eccetera che cosa ci si era nucleato un diritto patrio nella grande epoca del diritto comune prima che arrivasse le code Napoleone quindi e io a me era stato chiesto di parlare della parte veneziana e questo saggio che è apparso nel volume curato da Antonello Mattone e Antonello Mattone e l'altro collega Mario D'Appassano se non ricordo male io avevo scritto questo articolo un sistema giuridico repubblicano e all'interno c'è un diversa ci sono diverse pagine che sono intitolate sottotraccia a proposito di tracce sottotraccia in cui io andavo sottotraccia nei lavori di Cozzi per cercare di capire quello che lui non manifestava esplicitamente e che quindi da studenti da studiosi non si riusciva a cogliere se non dopo anni e anni e anni di come dire di esperienze di studi eccetera si poteva forse intracciare quei fili rossi per poter poi dialogare con lui a posteriori non era facile e ricordavo quanto diceva Marco Cavazzere perché il tema di Sarpi che poi lui tutto sommato non seguirà esplicitamente ricordo che ad esempio uno dei suoi grandi interessi è Piero Franceschi l'ultimo dei consultori che consiglio a Marco per le cose che ha detto Piero Franceschi è colui che considerava il cervello più fine della Venezia di fine settecento Piero Franceschi diceva che la Venezia si reggeva solo sull'abilità mediatrice della chiesa e sconsigliava il patriziato veneziano ad assumere decisioni mi sentite a proposito ad assumere decisioni che fossero troppo ad esempio il tema di matrimoni di divorzi di seguire principi di tipo secolare laico secolare e invece di affidarsi alla chiesa con la sua capacità di mediare di capire le istanze sociali non sempre Franceschi è seguito come anche è interessantissimo il consulto che Franceschi farà sulle feste popolari che ho avuto occasione di studiare feste popolari che riportano ovviamente dove? al mondo della chiesa al mondo della religione ed è un volume che è stato pubblicato dalla fondazione Cini e ecco tutto questo per dire che cosa? che a fine 5 inizio del 600 ha questa frase sibillina che nessuno aveva capito diciamocela onestamente aveva detto che con l'interdetto Venezia aveva superato il diaframma con la terraferma e i territori sud cosa voleva dire? con l'interdetto era chiaro a posteriore mi è stato chiaro che lui intendeva che cosa? che attraverso l'affermazione del potere per virgolette statuale centrale lui aveva voleva sottolineare che si era forzato anche tramite la figura di Sarvi e anche di Leonardo Donat che però Donat non aveva in mente chissà quali visioni Donat voleva una chiesa una chiesa nazionale una chiesa veneziana come era in Francia in questo si cioè Venezia che controllava i vescovi e non che fosse il pontefice la santa sede comunque dicevo questa capacità questa volontà di incidere con l'interdetto no? vi ricordate sostanzialmente scomunica Venezia che non accetta la scomunica e si proceda tutto regolarmente un rischio clamoroso perché cosa comporta? il patriziato veneziano costringe il clero della Veneto e i sudditi stessi ad adeguarsi alla volontà dello Stato cosa che non era così scontata abbiamo ritrovato tracce pensate a distanza di decenni di di processioni che vengono fatte o di messi inviati a a Roma per liberarsi dalla scomunica che si era ricevuta era interessante no? cioè nel mondo popolare contadino c'era ancora questa sensazione della scomunica quindi il rischio che lo Stato venisse delegittimato era forte ed attorno ai Sarpi in quegli anni nella corrispondenza con le Sassie lui cosa ha in mente? ha la mente la scuola culta cioè questa scuola che per essere chiari il diritto comune è il diritto che nasce nel Medioevo Università di Bologna ed è fondato sull'interpretazione dei giuristi cioè non c'è diritto se non è veicolato dall'interpretazione Bartolo Baldo eccetera tutto questo basti questo la la scuola culta dice eh no la scuola culta nasce in Francia con la con la vocazione monarchica ad essere accentratrice anche se il giurista che la formula è italiano alciato e la scuola culta sostiene ma noi ne abbiamo uno è un esponente di grandissimo rilievo Matteazzi di Marostica che scrive un libro proprio su questa scuola culta e la scuola culta cos'è? può sostegare che lo Stato il diritto pur rimanendo il diritto comune deve essere razionalizzato non deve essere affidato all'interpretazione dei giuristi quindi non è che a Padova se c'è un giurista che per interessi particolari interpreta in un modo a Vicenza c'è un altro che interpreta in un altro tutto deve andare avanti così eh no l'interpretazione deve essere regolamentata dai poteri secolari e Sarpi ci crede tanto è vero che lui chiama allo studio di Padova questo sarebbe da studiare Giulio Pace un eretico che era fuggito a Ginevra e che a Ginevra aveva veicolato questo tema della scuola culta quando arriva a Padova si mette a insegnare in base al diritto dell'alciato eccetera gli studenti dopo un anno lui è stato conserto a scappare lo contestano perché non è un diritto che andava bene nei tribunali nel nel nei fuori no proprio perché non era adatto a essere a quello che adesso io cercherò di affrontare alla mediazione all'equità all'equità un concetto di equità diciamolo subito è un concetto molto particolare quello di antico regime non è il concetto di equità che abbiamo noi del 50 and 50 no ma è un concetto come dire di tipo chiamiamolo per capirci gerarchico cioè sostanzialmente il concetto di equità presuppone che chi dona chi sta in alto deve donare all'obbligo morale why se non dona deve farlo deve donare e questo dono che lui dà deve essere accolto da chi sta sotto ecco la nascita anche di questi protettori no che nell'ottocento verranno ricordati dagli ex patrici veneziani che studiano la repubblica e chi riceve il dono ha a sua volta un obbligo di restituire un obbligo di restituire c'è questa equità questa equità è tipica del mondo consuetudinario è tipica del diritto veneto ecco ecco dove si arriva è tipica del diritto veneto figuratevi se la scuola culta poteva andare bene a venezia dove il tema della protezione di chi stava in alto era centrale determinava un po' tutte le relazioni di potere le relazioni sociali ma andiamo per ora ho voluto solo intervenire perché quello che aveva detto Marco Cavazza era estremamente interessante e mi ricordavo accennavo che proprio due studiosi francesi di calibro elevato Iconogen Nicole e Yves Castan si sono soffermati proprio su queste pratiche ecclesiastiche di mediazione loro dicono uno poteva anche andare a denunciare alle maresciosso che gli avevano rubato in casa però la cosa più semplice cos'era era andare in parrocchia e dire al parroco guardate se il ladro mi restituisce e io non faccio nulla allora il parroco alla domenica dal pubblico dice quel maledetto che ha rubato eccetera sarà scomunicato entro pochi giorni se non restituirà no la Nicole Castan aveva capito questo problema forse siamo a fine settecento eh il Parlamento di Tolosa e da noi questo non mi sembra che sia stato studiato però no vero Marco è un io ho trovato qualche caso in Curia a Vicenza in cui si interviene mercanti che hanno avuto merci rubate invece che denunciare vanno dal vescovo e il vescovo fa in luogo fa questa cosa che poi le abbiano restituite o no questo non lo so probabilmente sì perché la scomunica eh che la scomunica non è mica la roba così da prendere sotto banco eh ora noi oggi farebbe ridere ma all'epoca era importantissimo va bene scusate risiedo un secondo perché sono anche reduce da una malattia non da poco e la allora storia delle istituzioni storia delle istituzioni Cozzi la prende l'insegnamento 1983 forse nella lettera e nella corrispondenza ci sarà anche Gian Maria non è arrivato così avanti ma sarebbe interessante perché all'epoca il gossip il gossip diffuso allora all'epoca il gossip andava da San Sebastiano dove c'era la di lettere all'archivio ai frari poi si sposterà alla fondazione Benetton ma diciamo che il grosso del gossip era lì e il gossip cosa diceva? Gossip attenzione molto alimentato dall'alto come diceva no non era mai così avulso quasi mai partiva semplicemente dal basso diceva che Marino Verengo aveva fregato Gaetano Cozzi scusate il termine ma siccome è una bufala enorme mi sembrava giusto ricordarlo cioè Marino Verengo era un modernista lui aveva sempre detto onestamente che lui non era uno storico delle istituzioni e capiremo perché perché lui di diritto non sapeva nulla quindi vedeva in Cozzi invece un vero storico del diritto Gaetano Cozzi tra l'altro in quegli anni era era malato esce da poco esce il volume Repubblica di Venezia stati italiani basta leggere l'introduzione anche noi i suoi allievi eravamo tutti preoccupati di rimanere sentirlo rimanere orfani veramente non è uno scherzo e invece poi si riprende fortunatamente e non era Marino Verengo e Gaetano Cozzi erano tutto sommato nonostante quella rivalità quasi che veniva decantata da Coziani Berenghiani che si dividevano persino in archivio ma ragazzi cazzate scusate il termine ma erano cazzate la realtà era che erano profondamente amici e si stimavano e Cozzi tutto sommato mi ricordo sempre aveva messo in relazione tutti noi primi Scozzi con Luigi Berlinguer che poi avrebbe organizzato il grande convegno sulla Leopoldina e noi siamo andati in massa a Siena a parlare della situazione veneta veneziana e ovviamente ci sono stati dei contraccolpi nella didattica questo può anche spiegare probabilmente da un lato la volontà di Cozzi di avere meno impegno negli esami eccetera ma forse neanche tanto perché eravamo eravamo in due o tre ad aiutarlo quindi no diciamo che la possibilità di dedicarsi a temi che già negli anni precedenti lui aveva coltivato esecutori contro la bestemmia il matrimonio il divorzio e soprattutto poi due grandi tematiche che teneva lì un po' in freezer che era il Peloponneso diritto della Morea e poi le isole Ionia e una storia delle situazioni politiche la cosa era fattibilissima però chiaramente il numero dei studenti si era ridotto mi ricordo sempre che quando si iniziava si iniziava quanti saranno quest'anno no mi andava a me in una scoperta sei o sette la miseria sei o sette solo dopo qualcosa aumentava eccetera ma era rispetto ai numeri di Moderna Moderna no 60 70 80 persone non c'era però le tesi di laurea facciano le statistiche le tesi di laurea sia lui che dopo quando io ho preso l'insegnamento eravamo i primi eravamo quelli che avevano più tesi di laurea quindi qualcosa qualcosa di bizzarro di nevrotico sicuramente c'era ma chiaramente il dipartimento di storia era suddiviso nelle tre fasce tradizionali medievale moderna e contemporanea gli studenti andavano in quelle c'è poco da fare io un anno addirittura provocatoriamente ho messo storia del diritto invece che storia delle decisioni ho messo storia del diritto perché tanto vale rendere esplicito non so se è calato il numero addirittura ma comunque la queste cose andavano dette ecco quale diritto quale diritto allora perché poi anche gli storici del diritto guardavano con un po' di commiserazione di superiorità questo uomo che parlava di diritto veneto come a dire sì beh un uomo di grande no come Cantimori eccetera l'avevano descritto figuriamoci se possiamo permetterci di elevare delle critiche nei suoi confronti assolutamente però la roba del diritto veneto come a dire non ha senso non ha senso invece ne aveva ne aveva alla luce di quello che io dirò spero che riusciate io a essere chiaro e voi a seguirmi lui disconosceva dicono di me che non sono uno storico del diritto è vero fa è vero ragazzi si è laureato con Enrico Besta lui aveva sottolineato il ruolo di Bruno Dudan questo cito i due che più avevano messo in evidenza il diritto Bruno Dudan era disfallato il diritto consuetudinario che caratterizzava la Repubblica leggetevi il senato veneziano di Besta piccolo capolavoro ma non leggetelo come fa generalmente lo storico per andare a trovare quanti erano i membri come procedevano gli scrutini queste cose qua andate a vedere come lui descrive il senato su quale diritto su quale dicetelo attentamente e ovviamente dovete farvi un po' di cultura giuridica leggevi per esempio tipo Cavanna storia del diritto europeo che è però la storia del diritto tradizionale non quello di Cozzi però bisogna avere la conoscenza anche di quello il diritto nasce a Bologna no a Venezia è un'altra cosa e che cos'è che caratterizzava era l'interdisciplinarietà io qui ho riportato ho portato con me quella pubblicazione che della fondazione Benetton in cui all'inizio viene riportato quella lezione di Cozzi tenuta nell'87 attenzione nell'87 erano già 4-5 anni che lui teneva storia delle istituzioni e insieme devo dire avevo avuto anch'io gliel'avevo suggerito e poi lui me l'aveva accolto veramente favorevolmente il testo di Lawrence Friedman il sistema giuridico nella prospettiva delle scienze sociali Friedman è uno che ha insegnato Stanford per anni io l'avevo invitato anche a uno di miei convegni a capodistra poi paura del terrorismo eccetera l'ha sconsigliato prima cosa sosteneva che il diritto è innanzitutto espressione della società sembra una banalità ma non lo è non lo è è espressione della società e tra l'altro dedicava dei capitoli fondamentali al diritto consuetudinario in rapporto agli altri tipi di diritti lui diceva i diritti si possono anche valutare su come si manifestano nelle proposizioni sentenze atti giuridici in che maniera si presentano al pubblico e dice divideva tra sistemi chiusi e sistemi aperti sistemi chiusi erano dice per esempio Massimo quelli sacrali Corano Bibbia allora lì non c'è verso sono i sacerdoti da interpretare è un sistema chiuso sembra immutabile lui però diceva nessun diritto è chiuso è immutabile però la facciata è quella poi ci sono i sistemi chiusi di tipo scientifico che hanno la pretesa di essere delle scienze diritto comune no e diritto comune che però a Venezia non fa capolino ho tempo vero Alessandro ma c'era i sistemi aperti il diritto consuetudinario il diritto consuetudinario è un po' strano perché se noi parliamo delle consuetudini tutti pensano cose immutabili immobili in realtà come sostiene Friedman il sistema sono due sistemi che sembrano paradossali perché sono aperti quello rivoluzionario che citava il caso cubano quello diritto di Fidel Castro e il diritto consuetudinario che però il diritto consuetudinario che caratteristica che nega l'innovazione tutto è immobile tutto è fermo no in realtà se andiamo a vedere concretamente tutto si muove però c'è la negazione dell'innovazione diritto veneziano voi trovate tutti coloro che parlano del diritto veneziano non fine settecento ma dicono diritto statuti di Jacopo Tiepolo la gerarchia delle fonti la negazione del diritto romano ah dicevo attenzione anche il diritto romano ha le consuetudini come fonte privilegiata però attenzione il diritto romano considera le consuetudini interpretate dai giuristi come diceva Marco Cavazza altra musica altra musica come ho dimostrato io in un mio saggio se il giurista vuol capire qual è il diritto consuetudinario tende a fare un'operazione iniziale di astrazione deve astrarle quindi la ragazza viene dotata oppure no quindi deve dire sì lì nella zona che ho solito io era la Carnia in quella zona le ragazze vengono dotate fino a una certa somma eccetera non era così non era così nel diritto consuetudinario non c'è non c'è una regola astratta tutto si basa sulla mediazione quindi ad esempio quanta gente c'è che deve ripartirsi l'eredità il flusso demografico la questione economica della famiglia ecco che allora gli anziani ecco i vecchioni che Sarpi Sarpi da dei vecchioni all'inizio nella prima fase ai patrizi veneziani non è che avesse molta stima del diritto veneziano Sarpi Sarpi guardava al diritto francese alla scuola culta dopo cambia dopo cambia perché capisce la sottigliezza del diritto consuetudinario veneto-veneziano e la mediazione la mediazione cosa fa? non dice che c'è uno che vince che ha torto cerca di trovare una via di mezzo di mettere insieme cioè una decisione che possa come dire realizzare la che la la rottura degli equilibri che si è avvenuta si possa ricomporre quindi sostanzialmente il diritto consuetudinario va su due livelli uno è quello simbolico che è quello del mito nulla cambia a Venezia nulla cambia maggior consiglio costituzione quello che viene di tutto rimane fermo poi però questi valori simbolici devono fare i conti con l'ordine vissuto e l'ordine vissuto da che cosa è dato? dal conflitto la gente litiga la gente litiga e litigando tende a modificare tende a modificare la come dire la prospettiva di ciò che vuole l'esito del conflitto è dato dalla mediazione e la mediazione deve tener conto dell'ordine ideale quindi non può dire ha completamente ragione uno se questa rompe adesso questo l'ho scritto perché diciamo che analizzando questa tematica alla luce della pubblicazione di Cozzi forse si può capire meglio e guarda me mi leggo però un paio di passi perché mi sembrano interessantissimi io non li avevo notati all'epoca ma guardate lo storico del diritto deve frequentare anche altre stanze e la mia intenzione una volta andato in pensione di fare proprio un corso per laureandi le stanze della storia uno entra va nella stanza che lì è più consueta storia tradizionale ovvio poi ne trovo una storia delle donne ah però ma la storia delle donne data storia del genere ma è una cosa un po' più diversa è una storia del genere antropologia giuridica che è quella che faceva Cozzi ah però però capite è un percorso tortuoso è stato di recente ricordato questa storia delle stanze da Ute Frevert una grande storica tedesca che ha studiato tra l'altro le donne un'ora eccetera aveva in mente di organizzare un grande convegno sul lago di Como mi aveva invitato poi tutto è venuto a meno e e dice la storia del diritto deve frequentare anche altre stanze quelle che contengono gli strumenti necessari per conoscere la società antropologia guardate Cozzi che dice questo etnologia sociologia tenendo presente quanto all'antropologia questo lo dice per difesa perché sarebbe stato criticato nel mondo accademico dell'epoca che non è solo utile quella che parla dei popoli primitivi quale oltre alla scocciatura di esseri primitivi hanno anche quelle che li mettono in bocca spesso delle banalità ma erano usciti i diari di Malinoski sapete Malinoski dai diari si capiva che quello che lui enunciava nei suoi studi in realtà era frutto della sua esperienza personale ma vabbè poi dice il diritto l'ho studiato in fretta male me ne sono dimenticato non era vero ne ho solo una patina non era vero mi sono dimenticato sottolineo non solo del diritto romano non era vero certo non conosceva il digesto come lo praticavano i romanisti a giurisprudenza sicuramente ma anche del diritto attuale e il diritto contemporaneo che serve allora se dice che non lo conosce poi dice che serve che permette di capire attraverso quello che c'è adesso quello che non c'era prima cosa che spesso scusate qualche contemporaneista i contemporaneisti non tengono presente perché si non c'è si chiedono ma cosa c'era che non c'era che stimola a domandarsi per capire cos'è l'occhio del giurista il modo argomentativo del giurista posso fare come si dice scusate leggo il passo perché è molto bello una conclusione operativa lo storico questo guardate è veramente forte lo storico del diritto non si può formare nella facoltà di giurisprudenza cioè tutti i miei amici storici del diritto che ho frequentato negli anni mi sentissero Giovanni Chiodi in primis credo che mi brucierebbero che ho ricordato questa cosa lo storico del diritto per formarsi nei corsi di laurea in storia ho messo storia del diritto ma avevo avuto molte tesi di laurea ma non grandi seguiti a condizione che bilanci la preparazione specificamente storica con quella attuata da materie specificamente giuridiche infatti Cozzi mandava a Caffroschere a frequentare diritto pubblico diritto privato diritto di procedure civili diritto di procedure penale gli studenti erano stuolo non capivano perché non c'era un minimo sforzo da parte di Costoro perché non capivano la gente non capiva cosa c'era prima del 1800 capite? non lo capivano era era come violentare delle persone però lui voleva mandarli lo stesso io per fortuna ho evitato mi ha mandato da fare storia economica con Tucci ho dovuto andarci due volte perché non ho trovato il grande Tucci ho trovato gli assistenti e quindi ho dovuto un attimo questo ve l'ho letto per capire era un Cozzi era un interdisciplinarista non ha capito nessuno questo e io lo dico oggi con tutta tranquillità perché ormai sono fuori dal gioco e poi dal gioco nel senso che non insegno più ma ci scrivo ancora spero se la malattia me lo permette vorrei ancora scrivere e concetto di equità storico il diritto vedete già conta molto che fosse laureato in giurisprudenza è ovvio è ovvio se non fosse stato laureato in giurisprudenza questa interdisciplinarità avrebbe avuto l'assenza di una dei comma importantissimi cioè il diritto lui sapeva che il diritto ah diritto tra l'altro che lui non l'aveva mai annunciato ma l'aveva capito da Besta e da Bognetti soprattutto da Bognetti aveva due grandi aree no qui me lo sono insegnato la giustizia distributiva e la giustizia commutativa sono due termini tecnici che a noi non dicono niente ma la giustizia distributiva è la giustizia che riflette le realtà gerarchiche quelle che si ricordava cioè quando c'è una decisione questa decisione non può non tener conto delle reti di protezione di amicizia amicizia nel senso non nel senso che intendiamo noi nel senso di protezione di amorevoli ecco nell'ottocento c'è chi svela questo amorevoli amore quello che ne parla molto è Emanuele Antonio Spagna il grande storico del diritto portoghese che era un abituè di Paolo Grossi a Firenze e l'amore è quello che informa tutto il diritto amor caritas che informa tutto il diritto medievale è moderno se non teniamo conto di questo non capiamo tutta la giustizia distributiva che caratterizza tutte queste magistrature che ci sono la laura repubblicana dalle nostre città che non verrà mai meno neanche a fine a fine settecento tutto questo è un è un concetto molto importante che innerva innerva tutte le decisioni capite bene che a Venezia dove questa giustizia distributiva era applicata da Patrizzi ignoranti di diritto come pensava anche Grossi di Essel ma era il diritto a conoscenza e questa assenza che però dava diciamo rifletteva le strutture gerarchiche della società che dovevano essere mantenute e soprattutto difese nei loro valori simbolici vedremo poi quali dei lavori lui ha atteso a a a a quindi che lo storico del diritto si possa formare non nelle facoltà di giurisprudenza ma solo nei corsi di laurea in storia era un'affermazione persino paradossale ma con un fondo di verità certo è lo voglio vedere io lo storico che si forma in diritto nella facoltà di storia è destinato al massacro completo no è antropologia giuridica cioè diritto e società il testo di Friedman che lui aveva messo faceva leggere gli studenti un testo incredibile guardate purtroppo il mulino non l'ha più ripubblicato questo che all'epoca lui si divertiva a darlo anche a quei studenti porzuti autonomi quelli che che proprio non avevano molta remore ad attaccare il sistema ecco lì me lo demolisca non riuscivano a demolire il testo di Friedman non riuscivano a trovare l'appiglio se non dicendo tutte puttanate insomma non è quello il discorso era completo la vera antinomia che si viene a creare nel corso dell'età moderna non rintracciabile sostanzialmente nell'età medievale se non è tra costruittudine e legge due mondi molto diversi la legge come quella di Creonte viene calata dall'alto il mito di Antigone viene calata dall'alto la costruittudine è dal basso la costruittudine è rappresentata dalla donna dalla femmina come dicevano perché è lei che procrea il maschio è colui che arriva al potere e che tende a imporsi e come si può imporre rispetto alla tradizione con la legge con nuovi ordinamenti tutti i sistemi rivoluzionari si sono basati sulla legge Unione Sovietica Cuba tutti era il sistema normativo a imporsi però che doveva spazzare via le consuetudini e tra le consuetudini è quella più forte quella religiosa e ve le voglio vedere io cancellare il sistema oggi Putin procede con l'avallo di come si chiama quel patriarca eh eh vorrei vederlo senza cosa farebbe eh quindi la il discorso capite è complesso la norma scritta poi ha una caratteristica tende a essere astratta tende a generalizzare e ad astrarre quindi facciamo un esempio la donna eredita quando quando muore il padre eredita o oppure no si deve accontentare dell'adotte eccetera no i giuristi ragionavano così nel mondo considerare non era fatto così valutavano quanto era il contributo della donna in famiglia quanto avevano ricevuto i fratelli cioè alla fine la sentenza dei vecchioni degli anziani e da noi che erano i vecchioni il collegio queste magistrature capi delle quarantie questi erano erano quelli che valutavano sarebbe da studiare veramente la quarantia nelle sue decisioni sapete che c'è tutto il fondo delle raspe della guaria di comune eh non so se non sono mai studiate perché scritte in latino no è un latino molto chiaro molto bello preciso e che andrebbero studiate perché poi sono tutte sentenze che riguardano tutto lo Stato no e la vedere appunto ehm questa consuetudine come si manifesta nel nelle magistrature veneziane la diversità delle consuetudini del diritto ecco tra l'altro lui usa questa espressione diritto veneto ma trovate voi un due righe che dicono che cos'è il diritto veneto assolutamente non ce n'è non c'è dicevo come Luciano hai trovato tu due righe che spieghino il diritto veneto assolutamente ma cosa voleva dire un diritto consuetudinario quello è il gioco ma anche i giuristi se ricordate le gerarchie delle fronti se ne parlava no Gerardo un attimo eh statuti io la propria no statuti ehm analogia consuetudini e poi nel caso della terraferma il diritto romano e nel caso veneziano arbitrio cos'è l'arbitrio? mediazione la mediazione ovviamente la mediazione che veniva fatta da chi? non non dai dai giuristi in visi come tutti noi sappiamo la Venezia ma da dai patrizi e soprattutto coloro che detenevano un sapere consuetudinario denso forze che non poteva essere disatteso nei suoi valori simbolici quindi se c'erano delle innovazioni non si potevano ignorare ma queste innovazioni dovevano rientrare nei codici espressivi dei valori simbolici ecco poi vedremo tutti gli studi sul giuspatronato hanno questa direzione eh la 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 costituzione poi un altro elemento caratteristico l'oralità se voi mettete per iscritto anche a Venezia si cominciano a fare leggi vi dirò però che in realtà la legislazione veneziana è più di carattere penale dove qui non è più giustizia distributiva è la giustizia commutativa cioè il potere interviene con la spada no e chiaramente se c'è se c'è l'esigenza di intervenire non si può mica guardare intervenire con la spada la legge è essenziale la legislazione che viene introdotta a fianco negli statuti per esempio di terraferma parliamo quelli di Verona vedete non si molla mai gli statuti medievali riformati eccetera ma comunque quelli intoccabili intoccabili ha ragione grazie scusate ma allora la questa scusate ho perso più vabbè il questi statuti eh sì hanno poi oltre agli statuti eh eh approvati hanno poi tutta una serie di leggi approvate da Venezia non erano obbligati a inserirle attenzione non erano obbligati assolutamente non c'era l'obbligo da parte però erano tutte leggi inserite nelle commissioni cose che sta studiando l'Alessandra inserite nelle commissioni andiamo a vedere cosa sono queste commissioni oh fantastico troviamo delle cose di un interesse incredibile anche perché sono sempre disattesi però tanto li mettiamo lì e generalmente anche se non c'era l'obbligo vengono inseriti vengono inseriti nel andiamo a vedere che cosa c'è è interessante ad esempio ci sono delle leggi non dappertutto alcune inseriscono vi ricordate beh uno dei saggi più belli di Gaetano Cossi ambiente veneziano ambiente veneto e lui anche qua c'è sempre in alcuni dei saggi di Cossi come l'eroica amicizia e ambiente veneziano non riesco mai veramente a dire se aveva trovato il filo rosso lo cercava cercava sicuramente ma l'aveva preso a volte ho i miei dubbi l'aveva trovato beh non era di lui che l'avrebbe dovuto poi tirarlo ma lo affidava a qualche studente e sicuramente però individuava questi figli rossi ad esempio in queste leggi ci sono quelle contro la fissione nelle logge delle scritte a favore dei potestà in Issa è pieno nella terraferma veneta è pieno vuol dire che quella legge seguita ha fatto però li si metteva lo stesso negli statuti perché il valore simbolico mitico e a Venezia bastava a Venezia bastava c'era qualche rettore che dice ma c'è la legge non potete voi farmi il basso rilievo no addirittura qualcuno scriveva in collegio guardate questi mi vogliono fare no bravo si bravo bravo quanto quanto lo scemo è si avranno detti questi perché ovvio no se te la vogliono fare fatela fare chiuso beh e guardate quelle che c'è capodistra quante ne ha una roba impressionante una roba pazzesco molti si sono fermati su Leonis Marco quale Leonis Marco la roba queste iscrizioni indicano il connubio relazionale protettivo e tra l'altro io ho fatto un po' di ricerca con l'aiuto di Vittorio Mandelli che ha tutta una serie di biografie curricula dei patronizi e ho visto che chi è definito buon protettore dalla dalle città di terraferma questo sto parlando del 600 ed è questo che modifica i rapporti di forza Gian Maria che non è più il comune medievale e cos'è comincio quando torno a Venezia da volte da volte quando torno a Venezia lo accompagnano in collegio guardate che sta un buon bontoso ha fatto bene non è non si è comportato male con noi ci ha difeso i privilegi eccetera e questo che si è comportato in questo modo nella carriera va in alto io ho trovato i patrizi di media bassa condizione dei 48 che diventano consiglieri dei 10 non è roba da poco o nel collegio perché chiaramente erano stati dei buoni protettori avevano saputo rendere il senso recondito dello stato veneziano ma non è il medievale è un'altra cosa i rapporti di forza contemporaneamente stavano cambiando e dicevo ci nega l'innovazione e ci sono delle tensioni quindi che Cozzi studia molto bene qui lui ha dato il massimo di sé senza dubbio tra la bucaria di comune e il consiglio dei 10 la bucaria di comune difende l'assetto tradizionale come le quarantie il consiglio dei 10 è espressione della giustizia commutativa bisogna intervenire se i mercanti vengono aggrediti lungo le strade non potete mica affidarvi alle consuetudini dovete intervenire entrano nelle case dei ricchi per derubarle bisogna impiccare i responsabili questo è il dubbio il consiglio dei 10 lo fa bene attenzione però come lui dice nella Repubblica di Venezia stati italiani un titolo orgoglioso molto orgoglioso la Repubblica di Venezia non so non è gli stati italiani come ha detto lui lo diceva non lo diceva esplicitamente ma era chiaro quello che studio io è un'altra cosa di quella che studiate voi e il consiglio dei 10 deve fare i conti con l'ordine mitico l'ordine ideale che dicevo prima ma c'è il consiglio Repubblicanesimo il Repubblicanesimo delle città suddite che dovevano sopravvivere questo concetto anche se svuotato ma doveva sopravvivere perché in funzione della sopravvivenza del Repubblicanesimo del centro anche questo sarebbe un argomento da studiare interessante il consiglio dei 10 non è una rota criminale come a Firenze o altrove deve fare i conti con un sistema consuetudinario in cui l'ordine ideale va comunque difeso va comunque difeso e perciò viene corretto mose correzioni che andrebbero studiate in questo senso oppure la riforma Gritti non è Gritti a un certo punto qualcuno si mette in testa che bisogna introdurre le leggi ma la legge vuol dire astrazione non è più consuetudine vuol dire astrarle e se tu astrai ci vuole quello che la interpreta il giurista ecco la chiave per capire la riforma Gritti questa questa è la vera chiave ne discuteva con Venture questa è la chiave e ovviamente non se ne fa nulla perché avrebbe significato rinunciare a rinunciare non era neanche possibile come in la situazione del Peloponneso che è uno dei corsi che lui ha tenuto storia delle istituzioni e noi ci diciamo ma che cosa va a cercare quest'uomo se gli statuti emanati dal senato possono essere applicati in morea dopo abbiamo capito bene che cosa voleva dire che ovviamente statuti significava leggi significava anche se erano i provvedimenti dei rappresentanti veneziani meglio non fare nulla e affidarsi a chi all'arbitrum quindi man mano che il rettore andava lì Peloponneso come anche nelle isole perché nelle isole Ionie il diritto veneto a fortuna fino a metà ottocento perché è l'espressione di questa mediazione che ancora si sentiva necessaria e l'arbitrum permetteva di mediare tra le diverse situazioni l'ordine mitico andava difeso nonostante i conflitti e beh poi tutti i saggi dedicati alla politica quelli dedicati alla politica del diritto dove lui parte da lontano si inoltra nel Mediterraneo cerca di capire quale diritto veniva applicato eccetera era un po' un dialogo che lui voleva fare con gli altri storici del diritto quasi da esprimere la complessità dello stato veneziano però non non era non entrava direttamente nelle tematiche che poi invece avrebbe approfondito Morea Israioni e alcune altre tematiche che lui non ha mai non ha mai voluto abbandonare negli ultimi anni ecco per esempio negli ultimi anni questo interesse nei confronti del giusto patronato del Doce perché diceva giustamente Marco Cavarzer che in realtà lui interessava il conflitto tra la come dire il primicelio che rappresentava il vescovo del Doce e la e la procuratore di San Marco questo questo diciamo questa tensione rifletteva un altro aspetto del diritto consueto ordinario cioè in ogni diritto consueto ordinario il tema religioso è importantissimo il rapporto con la chiesa con l'aldilà è fondamentale uno stato come a Venezia non poteva certamente rinunciare al tema della sovranità statuale quindi la figura del Doce doveva avere una sorta di sacralità però questa sorta di sacralità non doveva eccedere più di tanto doveva essere contenuta ecco il ruolo dei procuratori entro quell'ordine ideale che non avrebbe dovuto scombussolare tutto l'impianto diciamo che stava sottostante ecco perché lui si dedica ancora una volta ai rapporti stati e chiese in realtà anche se esaminati in una luce molto più sofisticata nessuno ha capito questi lavori ve lo dico onestamente nessuno li ha capiti nessuno che abbia sottolineato questi aspetti assolutamente se c'è qualcuno che vuole contendermi questa affermazione lo faccia pure ho fatto anche altre cose che ore sono? adesso devo andare al palazzo Ducale a fare la guida eh? altri due minuti te li possiamo dare vabbè eh no alle 12 e mezza dobbiamo concludere penso che la mattina necessiti anche così di ecco eh il concetto di equità andrebbe esaminato nel diritto culto francese come nel diritto che si basa sulla legge l'equità è un'equità astratta uniforme nel diritto veneto nel diritto consulionario l'equità non ha mai un'uniformità va valutata caso per caso ecco perché è difficile formulare Daniele Manin che è uno dei primi a dire il diritto veneto è un diritto consulionario no poi cosa fa però era un avvocato aveva studiato a Padua fa l'errore che fanno tutti tende a cercare di capire questo diritto consulionario veneziano alla luce degli schemi astratti del diritto del diritto romano non funzionava non poteva funzionare così perché quel diritto veneziano era un diritto di mediazione che non era sottoponibile a schemi e ad astrazioni sul tema poi dell'economia eccetera lui ha fatto le cose migliori io credo indirettamente perché lui non era uno storico economico ma indirettamente ambiente veneziano è un ambiente bene quindi la compenetrazione dai due mondi andare a rileggerlo oggi forse ci trova anche questo aspetto che sembrerebbe disatteso anche lo studio sulla morea ha una valenza economica non da poco non è la storia economica a tuo cuore è chiaro andiamo a cercare quello quindi per concludere io credo che se si volesse riprendere l'eredità di Gaetano Cozzi l'unica maniera è riprendere la sua vocazione interdisciplinare buona fortuna bene allora possiamo cominciare buon pomeriggio a tutti mi fa molto piacere essere qui a introdurre questa giornata dedicata alla venezianistica e alla venezianistica in realtà perché poi questo sulle tracce di Gaetano Cozzi che io come anche Marco Bellabarba Luciano Pezzolo e altri qui presenti conoscemmo primo secondo anno di università ai corsi di storia moderna e credo di poter dire che per tutti noi l'edizione fu fortissima e fu talmente forte che qualche traccia più o meno resistente resiste fino ad oggi sul fascino dello storico ma a me piacerebbe dire soprattutto in questa sede dell'intellettuale se io posso ricordare qualcosa di Gaetano Cozzi questo sì ecco mi permetto di promettermi sul discorso dell'unicità e dell'eccezionalità ecco il dialogo con lui era veramente qualcosa di irriproducibile perché era capace talvolta di intuizioni così fulminanti che non era semplice cogliere immediatamente perché talvolta si celavano all'interno di costruzioni un po' barocche ecco potremmo così dire ma che risultano alla fine pensando anche purtroppo appunto è passata anche la nostra vita di ricercatori feconde e stranodariamente anticipatrici di linee di ricerca che poi si si svolsero io ringrazio Gian Maria Varanini di avermi così fatto leggere in anticipo il suo intervento e mi ha molto mi ha molto stupito e direi molto turbato anche quella frase che riguarda la lettura dei fascicoli processuali non era comune anzi era rarissimo che questi materiali poi invece molto usati in sede storiografica fossero valutati non come uno strumento di conoscenza o di riporto o di rafforzamento di altre linee di sviluppo di disegni di ricerche che erano in corso pensiamo ad esempio per parlare di un altro grande personaggio così che sta come un convitato di pietra alle nostre spalle cioè Marino Berengo che usò dei materiali processuali nel suo grande libro sui mercanti e i nobili lucchesi però questo tipo di tracci testimonianze erano sempre ricondotte intorno ad un discorso o l'altro ad esempio l'appartenenza di questa quella famiglia di questo quell'individuo entro un clan all'interno delle lotte per il consiglio eccetera eccetera quindi questo è un aspetto che io voglio sottolineare come dire di una fecondità che forse era addirittura maggiore nel discorso orale che nella pagina scritta eppure elegantissima bene i ricordi si affollano però anche il tempo preme oggi pomeriggio ci sono tre interventi il primo è di Marco Bellabarba il professore Bellabarba insegna a Trento storia moderna si è occupato di storia delle acque di storia delle comunità rurali di storia del Trentino nella prima età moderna di storia della giustizia e anche di storia dell'impero a inizio ottocento quindi forse mi sono anche dimenticato qualcosa un insieme un raggio di interessi veramente vastissimo non voglio dire altro se non apprestarmi ad ascoltarlo con grande piacere Marco parlerà di un tema che attraversa ovviamente tutta tutti i cozi adesso sentiremo come la nobiltà grazie 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 Alfredo grazie a Lucio e al Sandra Gian Maria che troppo confidenti delle mie capacità mi hanno fidato questa relazione a un non venezianista quale sono io dunque per provare a si è occupato anche di storia veneziana in realtà tutti i contributi sulla storia treccana di Venezia sì dico per avvicinarmi agli studi di Gianna Cozzi sulla nobiltà quell'universo l'aveva definito lui complicato e lento che era il patriziato veneziano vorrei partire da alcune pagine centrali del libro di Claudio Donati sull'idea di nobiltà in Italia nelle quali lo storico milanese ricostruiva lo stato di tensione del patriziato veneziano di fine cinquecento alla luce dello studio del trattato di Paolo Paruta della prestazione della vita politica Donati introduceva queste pagine dense del suo libro ricordando prima il tono profondamente diverso del dibattito veneziano sulla nobiltà da quello che si trovava in opere scritte pubblicate negli stati principi che era una diversità peraltro come sappiamo di lunga durata ma poco a poco nelle pagine e nelle voci soprattutto dei personaggi stilizzati da Paruta questa differenza si faceva un po' meno percepibile spaccature fra nobili ricchi e poveri tra giovani e vecchi la sempre più palese marginazione di una parte del patriziato veneziano dei vertici di governo questa miscela di ristrettezze economiche e di frustrazioni politiche che avrebbe da lì a poco condotto naturalmente al movimento di Renier Zeno e poi anche cosa che Donati ricordava al saggio sull'eroica amicizia tra Nicolò Barbarigo Marco Trevisan ecco tutte queste vicende secondo Donati indicavano e cito quanto profonda fosse ormai nel patriziato veneziano del secolo XVII la ricezione del concetto cavallerisco dell'onore nato altrove e altrove sviluppatosi ecco tra 5 e 600 questa è la lettura i patrizii veneziani sembravano così allineare la loro idea di nobiltà ad un sistema di valori il primato del sangue lo splendore dei titoli le virtù cavalleresche eccetera e di riferimenti ideologici che quindi erano spostati o esterni rispetto al loro passato dando vita ad una vera e propria definiamola così rielaborazione di tipo signorile e un po' reazionaria dell'ideologia aristocratica repubblicana finendo quindi per essere assimilati in tutto i loro compagni diciamo simili italiani ed europei ho provato poi a confrontare queste pagine con quanto Cozzi scrive in quell'altro saggio uno dei tanti saggi che lui dedica a Paolo Baruto e dal quale peraltro anche Donati era partito la perfezione della vita politica era anche per Cozzi un libro della crisi crisi in cui si debatteva la Repubblica in quegli anni nonostante così la resistenza del suo sistema politico lo splendore delle ricchezze e dell'economia i temi quindi accennati da Donati tornavano anche qui ma il piano dottrinale per così dire la definizione dell'idea di nobiltà appunto veniva subito quasi posta nell'ombra dal tentativo invece di Cozzi di ricostruire l'identità religiosa e civile dei protagonisti di quel dibattito immaginario oppure come diceva stamattina Gian Maria Baranini dal tentativo di giungere agli animi degli uomini alle loro passioni più segrete ad un certo punto della disputa uno dei protagonisti Michele Suriano esprimeva e Cozzi citava questo passo il desiderio che il suo contraddittore il patriarca Giovanni Grimani uscisse dal campo puramente teorico e si decidesse a parlare del buon governo di noi medesimi così vicino e così simile al suo vedere al governo di una bene ordinata repubblica ecco uscire quindi dalla teoria collocare i discorsi su uno sfondo istituzionale intrecciare i dissidi del patriziato al tema della costituzione repubblicana mi pare questa la strada che Cozzi decise di percorrere addentrandosi nella storia del patriziato per avvicinarsi per l'appunto alle dimensioni ideologiche culturali umane che ruotavano attorno al ceto dirigente e al diritto della repubblica quindi con lo scopo di indagare le prospettive certo le idee del suo ceto dirigente ma anche le concezioni della vita politica e costituzionale che lo animavano una strada lo ricordava anche Alfredo adesso che aveva pochi punti di contatto con le discussioni sulle serrate cittadine i contrasti di far patriziato e feudalità che erano i grandi temi allora dominanti della storiografia sulla nobiltà italiana Berengo per l'appunto ecco di questo approccio singolarmente marginale potremmo dire si avevano naturalmente tracce e se ne erano trovate tracce se ne trovano tracce nella storia naturalmente raccontata dei contratti fra vecchi e giovani ricchi e poveri patrizii poveri nel doge Nicolo Contarini naturalmente dove la tendenza all'oligarchia da una parte all'allargamento del potere a una sfera più ampia di patrizi dall'altra si specchiava questa figura un po' melanconica contraddittoria combattiva di Contarini il quale però riportava tutti questi scontri all'urgenza di mantenere integra la sovranità della Repubblica accadeva lo raccontava bene Cozzi per esempio nel disinteresse di fondo con cui i contarini guardava agli scontri tra i nobili della quarantia e i nobili del consiglio dei dieci nelle repliche molto intransigenti anche un po' infastidite che Contarini rivolge alle proposte di Renier Zeno nonostante una prima diciamo di avvicinamento perché giudicate pericolose tutte per l'autorità dello Stato e questa tendenza a quanto a riportare tutti gli scontri ad una dimensione diciamo costituzionale ai rapporti tra le molte magistrature della Repubblica emergevano invece molto bene negli interventi per esempio più diplomatici al maggior consiglio di Battista Nani che senza il moralismo appunto rigido e pericoloso di Contarini così lo chiamava Cozzi richiamava tutti i presenti alla difesa del comune carattere del patriziato il solo carattere che riuscisse in qualche modo a fondere a fondere tutti quanti malgrado le divergenze sociali che scuotevano certamente quella classe e dopo il Niccolò Contarini sarebbe Cozzi sarebbe tornato moltissime volte sul tema della crisi della nobiltà una parola crisi che si accoppia spessissimo in moltissimi saggi quando Cozzi interviene nello studio del dibattito aristocratico della vita della nobiltà in senso lato da differenti prospettive creando personaggi patrizia per l'appunto veneziani che lo ha notato secondo me molto bene Michele e Simonetto sembrano tutti quasi in partenza immersi in un'atmosfera segnata da una scrive Simonetto da una malinconica rassegnazione animati quasi da un senso oscuro del destino da una precarietà da un flusso molto costante di declino quasi imminente e non so se questo c'entra con il mito debole di cui ci ha parlato Claudio stamattina ma volevo ricordare queste secondo me molto acute espressioni di Michele e Simonetto peraltro c'era in questo riflettere sulla decadenza di una classe dirigente il desiderio di partecipare credo da parte di Cozzi a un dibattito questo sì invece largamente italiano diffuso in quegli anni tipico delle generazioni di storici uscite naturalmente dal fascismo che rifletteva sulle origini della decadenza italiana e sul problema della mancata realizzazione di un grande stato territoriale in Italia agli inizi dell'età moderna ne risultava come sappiamo per lo più una rappresentazione radicalmente difettiva della realtà italiana di età moderna e un giudizio politico e morale tutto in negativo del pluralismo politico di quel periodo che si immaginava costituisse anche il presupposto di un certo conformismo italiano fatto di individualismo passività indifferenza ai valori pubblici ecco a queste immagini di debolezza e di incapacità dei cieti dirigenti italiani che era chiarissima per restare in ambito veneziano nei due grandi libri di Berengo e poi nelle opere di Ventura ecco Cozzi come è noto reagiva ricomponendo la storia del patriziato e del suo agire politico come un processo lungo molto inquieto ma anche sensibile di adattamento ai bisogni di governo dello Stato quindi di fronte all'immobilismo gretto e avido del patriziato di Berengo di Ventura stava secondo Cozzi l'autorità anche morale di un gruppo di patrizi che nei momenti di crisi più dure avevano riscoperto sono parole sue il senso dello Stato la capacità di cogliere i problemi essenziali di risolversi sbrigativamente incuranti diminuzzi e formalismi che potevano attardare nella loro opera ecco quel tipo di italiano ideale così l'avrebbe definito Cozzi nell'introduzione a Venezia barocca che era che rappresentava per lui Niccolò Contarini ecco non avrebbe certo evitato peraltro no nelle ricerche successive riapparire costante quasi strutturale dei sintomi della crisi e anche dei tentativi di comprendere le ragioni di questa crisi alcune coppie di contrari giovani e vecchi ricchi e povere autorità e giustizia aristocrazia e oligarchia torneranno di continuo con varie tonalità accenti a reggere un po' la trama di tutti i suoi saggi sulla Repubblica di Venezia ma sempre interpretati sullo sfondo delle relazioni tra le magistrature veneziane senza negare mai senza mai negare le incongruenze e le debolezze degli assetti di potere del patriziato semmai riflettendo sui nessi che dovevano esistere tra le strutture costituzionali della Repubblica e le virtù o i difetti di chi le occupava la crisi del certo patrizio e dunque delle istituzioni politiche che ne incarnavano il potere attraversava ad esempio molti anni dopo ma in lo stesso identico orizzonte temporale i protagonisti di giustizia contaminata questo bel libro del 1996 dove appunto nobili ricchi sempre più ricchi e nobili poveri sempre più poveri separati appunto da un abisso contraddistinto dalle etichette di zenisti e corneristi Cozzi lo dimostrava bene non si colmava grazie alla po' compromissoria correzione del 1628 e ritornava nonostante tutto a essere sancito dalla parte del 1636 quello che lo bello insomma limitava l'uso delle vesti con le maniche larghe appunto ducali a pochi magistrati in quella vicenda appunto i dieci l'inquisitore di stato erano intervenuti duramente come si esprimeva l'incipit della parte per fermare il grande scandalo iniziato nella nobiltà e lo avevano fatto non risolvendo però il problema di fondo ossia il contrasto appunto tra i due ordini della nobiltà l'ordine del consiglio dei dieci quello ruotante intorno alle massime cariche che è l'ordine delle quarantie ruotante intorno alle cariche minori un contrasto di cui Cozzi peraltro coglieva gli ultimi strascichi nel 1640 all'epoca della famosa correzione del doge Francesco Erizio ecco ma ancora più decisamente secondo me l'orizzonte della crisi del patriziato faceva da teatro al secondo capitolo di Repubblica di Venezia e Stati Italiani all'epoca delle correzioni del 1668 del 1671 nel susseguirsi molto concitato come sappiamo delle argomentazioni di Zuanne Sagredo e poi nelle repliche dei suoi avversari dietro l'ennesimo tentativo di fermare per l'appunto lo strabordare oligarchico dei dieci c'era e scriveva Cozzi e cito il solito problema della crisi della nobiltà del solco che separava i ricchi e i poveri i primi tutti presi dall'ostentazione del loro benessere mediante il lusso del loro vestire lo sfarzo delle loro case a Venezia in campagna e della stridente miseria degli altri e del venilmeno dei valori politici che ne avevano costituito il contenuto essenziale che erano consistiti nell'identificarsi pienamente come corpo come corpo aristocratico con la Repubblica nel fare del servizio prestato a questa una norma connaturata alla propria esistenza che non si poteva infrangere senza rinunciare ad essere se stessi ecco come mi sembra dimostri bene questa lunga citazione del solco scavato tra patrizi ricchi e poveri una condizione che era peraltro comune anche altrove erano quelli per esempio gli anni degli studi di Grendi sulla povertà crescente dei membri della nobiltà genovese il suo manifestarsi non solo come un problema di patrimoni privati e familiari ma come un problema urgente di ordine pubblico ecco questa enucleazione di una fascia più ricca di nobiltà interessava a Cozzi nella misura in cui avvisava della dialettica che costituiva il nucleo del dibattito politico veneziano da una parte appunto quella schiettamente repubblicana che poneva l'eguaglianza dell'aristocrazia lui scriveva sotto l'impero della legge e doveva però trovare i modi di dare un contenuto reale a questa eguaglianza attraverso dei provvedimenti in grado di mantenere l'equilibrio tra gli organismi costituzionali che era poi l'intenzione sottesa al dialogo la ruta quella cioè di conservare i rapporti tra gli uomini quali vigevano nella società europeana lui contemporanea dando un valore etico agli attributi di cultura e di vita della sua classe una esigenza che si poteva realizzare con scelte politicamente nobiliare e dall'altra invece c'era una concezione più incline a considerare come preminente per la conservazione della Repubblica l'esercizio di un'autorità che fosse affidata ai membri del patriziato e si esplicasse sui membri dell'aristocrazia oltre che su tutto il resto della popolazione ecco mi sembra che nell'avvicinarsi agli uomini dell'elite veneziana guardandoli come pezzi di una scacchiera istituzionale e riusciva a cambiare atteggiamenti e modi di vedere la realtà opinioni al variare delle cariche politiche o giudiziarie ricoperte e si scorgeva la sensibilità davvero fuori del comune allora e anche oggi di cogliere gli scambi sottili che esistevano tra gli uomini e le istituzioni politiche nelle quali entravano per svolgere degli incarichi e quando osservava e faccio solo due esempi quando osservava Cozzi guardando le carriere di certi patrizi passati appunto dai dieci alle quarantie agli inquisitori di stato che essi e cito una volta assunte nuove responsabilità inseriti nel solco di nuovo organismo vi acquisivano un'ottica congruente con lo specifico ruolo istituzionale e non guardavano allo stesso modo i problemi che loro venivano proposti o quando ancora nell'esaminare il processo delle aggregazioni al patriziato nel corso della guerra di Candia ricostruiva le discussioni apertesi nel maggior consiglio toccando uno degli aspetti più tipici e sottolineate allora dagli storici dell'ideologia nobiliare italiana il suo aprirsi come abbiamo visto Donati scriveva ad una legittimità basata sulla purezza del sangue degli antenati quindi una curvatura un po' razziale quasi biologizzante di cui molti studiosi appunto Donati allora effettizzavano il peso però a Venezia le cose secondo Cozzi andavano diverse e introduceva una notazione di grande interesse perché la discussione scriveva era stata emblematica la discussione nel maggior consiglio per l'aggregazione delle trasformazioni avvenute nella classe dirigente veneziana per il classe dirigente veneziana scusate per il patriziato minore era la purezza del sangue il crisma di nobiltà che connotava la propria condizione che la elevava a dispetto della miseria materiale e magari morale era il sangue i natali che conferivano tutti i nobili e tutti i membri del maggior consiglio un'eguale parcella di soviertà al contrario per i grandi del patriziato nessuna curvatura di sangue era così decisiva perché non bastava la semplice condizione appunto di patrizio non era un elemento di distinzione sufficiente ci voleva virgoletta la grandezza nel presente ancora più nel passato attestata generazione per generazione della ricchezza del successo politico la ricchezza era un altro tema per l'appunto del dialogo di paruta dall'accumularsi di gloria ecco il patriziato ci poteva vendere per danaro ma non la grandezza ed era questo che dava il carattere che contava a quello di principe che era un modo secondo me di ribadire non solo ci siamo tornati stamattina banalmente la diversità del caso veneziano da altre situazioni ma un modo per entrare dentro i chiaroscuri di un ceto dirigente nelle idealità nei punti di forza in quelli di debolezza nel mettere quegli uomini dentro un tessuto di istituzioni dalle quali il loro agire riceveva un senso e sono spunti che troveremo mescolati molti altri come al solito nei lavori di Cozzi in ambiente veneziano e ambiente veneto che è uno dei saggi più belli a mio parere scritti da Cozzi anche il più autobiografico il più chiaramente autobiografico nel quale veniva lo scoperto il suo modo di intendere la vicenda delle relazioni fra Venezia e il dominio da terra il patriziato delle origini medievali e la conquista del dominio fino al tramunto settecentesco occupava queste pagine con toni ammirati spesso forse anche troppo ammirati quando scriveva uomini i patrizi assai spesso di straordinaria ricchezza così consapevoli di costituire un mondo diverso dagli altri di fronte al quale stavano i nobili invece di terraferma uomini che nella stragrande maggioranza dei casi non erano usciti dal chiuso della loro vita cittadina un'affermazione abbastanza appunto forse discutibile ma poi erano uomini che dopo Agnadello dopo le guerre con i turchi la contesa dell'interdetto le difficoltà economiche erano usciti profondamente mutati da queste trasformazioni era stata una crisi che aveva messo allo scoperto i limiti della sua aristocrazia questo Cozzi lo scriveva molto chiaramente limiti come classe dirigente e che era arrivata questa crisi a modificare le strutture dello Stato lasciando che si creasse di fatto un'oligarchia in luogo di quella aristocrazia che aveva costituito idealmente l'essenza del suo repubblicanesimo ecco non è strano che queste affermazioni in parte un po' contraddittorie con quanto si può leggere in altri lavori seguisse una mirata citazione molto sincera di ventura di nobilità e popolo e la costatazione appunto che il diaframma fra nobili e gentiluomini per usare le parole di Sanudo poco a volto si era sciolta si era sciolta nella convergenza scriveva Cozzi verso l'accentuato senso della famiglia dell'onore inteso soprattutto come riconoscimento esteriore rappresentanza del grado sociale ecco eppure ecco ancora una volta nonostante questo processo di simbiosi lenta nonostante la crescita di questa nobiltà più rigorosamente chiusa in qualche modo più livellata verso l'alto ecco Cozzi tornava a ribadire che quella nobiltà era una nobiltà quella patria veneziana che si poneva sempre idealmente sulla linea dei principi e magari dei sovrani non dei baroni o dei conti capace ancora nonostante la decadenza settecentesca di provare ancora in quei momenti di declino e sono parole sue almeno una parte dell'orgoglio di sentirsi rappresentante di un corpo politico le cui capacità di suggestione poi sarebbero nonostante il declino settecentesco nonostante poi la fine della Repubblica sarebbero passate scrive Cozzi alla nuova classe dirigente veneta le tante famiglie borghesi spesso ebree che si sarebbero rivelate tutrici amorose e fedeli del patrimonio della Repubblica le ultime davvero splendide pagine erano fatte di paragrafi brevi ritagliati su alcuni aspetti del dominio veneziano che erano intesi a mettere in luce risvolti politici di costume culturali e religiosi il suo paternalismo di fondo ma anche come meccanismi di scambio di fedeltà di amicizia tra appunto la nobilità di terraferma o le città e il patriziato erano considerazioni credo molto fini su cosa fosse una cultura politica repubblicana che mi sembra il problema di fondo o uno dei problemi di fondo affrontati da Cozzi qua i suoi linguaggi i suoi riti per l'appunto come si imprimesse questa cultura politica repubblicana anche nella mentalità del suo ceto dirigente questo saggio ambiente veneziano ambiente vendo che è del 1984 era tanto ricco di spunti quanto di questioni appena accennate lasciate cadere o quasi nascoste tra le parole che riportavano peraltro agli interrogativi di fondo dei suoi studi di quegli anni mi riferisco naturalmente ai due volumi curati società di giustizia della Repubblica Veneta 1980 il primo 1985 il secondo nei quali lui e i suoi allievi cercavano di capire cosa significasse rendere giustizia agli abitanti della terraferma correggendo modificando innovando il proprio diritto sempre però il meno possibile con interventi potremmo dire cosmetici e contenuti e si chiedeva Cozzi in una pagina molto bella se sarebbero bastati piccoli adiguamenti agli statuti veneziani le correzioni a rendere l'applicazione del modo giudiziario veneto effettivamente recepito nella terraferma ritornava in queste pagine naturalmente ancora una volta l'affermazione che l'aristocrazia veneziana a cui spettavano tutte le funzioni giudiziarie amministrative nella città dominante restava in gran parte un ceto di governo un'elite politica legata a concezioni e interessi della città stato che non poteva in questo modo secondo Cozzi rendere giustizia a questi governati in virgolette così diversi tra loro per esperienze passate e situazioni attuali governati che erano spesso riluttanti naturalmente ad accettare questa sovranità veneziana ecco secondo Claudio Povolo che abbiamo ascoltato questa mattina Stato Società di Giustizia e Repubblica Rente i due volumi rimasero un episodio isolato senza costituire un vero elemento di dialogo con la storiografia italiana per l'assenza di un quadro sistematico di fondo eppure per le difficoltà insite nella natura stessa del diritto veneto quello specifico diremmo così rito repubblicano che era così difficile da comparare con le altre esperienze delle prassi giudiziari quindi con gli altri casi di studio italiani nonostante il sistema certamente il sistema giuridico repubblicano fosse attraversato da profonde trasformazioni nonostante fossero percepibili dopo l'attardo cinquecento le complesse le distribuzioni del potere e degli attori sociali anche degli assetti istituzionali vigenti questo sistema politico repubblicano e giuridico repubblicano restava un sistema diremmo indissolubilmente legato allo stesso cito dirigente e alla coscienza della propria anche alla coscienza della propria debolezza incapaci di innovare del tutto le sue strutture gerarchiche le sue prassi di mediazione tra i corpi coci doveva e ne era pienamente consapevole come mostrano i suoi ultimi lavori in Venezia una società di principi il saggio ricordato da Marco Cavarze e da Claudio sul gius patronato del doge anche fortuna e sfortuna del diritto veneto dove si leggeva questo interrogarsi continuo sulla natura più intima e più profonda della struttura del potere veneziano e sul destino però Cozzi riteneva comunque avesse lentamente modellato la cultura e il modo di essere della società condividendo uno stesso destino nei secoli dell'età moderna mi pare di poter dire che sempre più negli ultimi saggi la diversità di Venezia e del suo patriziato letta con una padronanza delle fonti con una sensibilità intellettuale davvero straordinaria veniva per così dire sempre più spinta spinta all'estremo e le figure degli ultimi saggi di Cozzi erano poste nella cornice di un mondo che tendeva a diventare sempre più veneziano e forse un po' meno penso che questo incentrarsi dell'orizzonte geografico si dovesse anche al fatto che riprendo le di Claudio che aveva fatto nel profilo Cozzi ha ricordato ecco penso che questo orizzonte potesse anche dipendere dal fatto che la diversità il diaframma per l'appunto tra Venezia e la nobiltà e la società di terraferma è raccolta negli studi di Cozzi essenzialmente dall'alto l'ambito cioè di una visione storica di cui analisi si soffermavano ad indagare le contraddizioni e le scelte del cetto dirigente lagunare mentre sullo sfondo si ponevano appunto i governati le cui istanze recriminazioni motivazioni richieste diventavano visibili negli scritti di Cozzi solo nel momento in cui si manifestavano più o meno direttamente entrando in contatto con le istituzioni lagunari quindi con il ceto patrizio ma era per questo inevitabile nell'orizzonte diciamo del finito di Cozzi che per il patriziato veneziano questo sistema si mantenesse stabile con tutti i suoi pregi le sue incongruenze e mi avvio a concludere dicendo solo che a distanza di molti anni di tanti studi che sono dopo sono intervenuti è fin troppo facile osservare che la diversità la separatezza patrizia cioè la separatezza del sistema di potere veneziano di fronte al dominio da terra di quello da mar si calava una visione della storia italiana e dei suoi difettosi caratteri nazionali che era quasi scontata quasi un marchio per la generazione di Cozzi e delle persone che avevano vissuto quelle vicende della storia italiana e si potrebbe aggiungere che per esempio Cozzi non si era mai spinto a comparare Venezia con altri poteri repubblicani cosa che invece gli altri studiosi di altre repubbliche Venezia scusate Firenze e Genova più frequentemente facevano non si era spinta ad accogliere procedure di indagini tipo più sociale e antropologico che già allora gli storici anglosassoni per esempio elaboravano su Firenze indagando quindi le reti di connessioni non istituzionali non formali e non pubbliche che il patriziato veneziano poteva avere intrattenuto con l'aristocrazia di terraferma non c'era neanche forse appunto negli studi di Cozzi un reale studio approfondito delle vicende economiche del patriziato veneziano ma tutte queste sono osservazioni in qualche modo finali che niente tolgono assolutamente e non è una chiusa di maniera o molto semplicemente d'occasione niente tolgono davvero insomma al rilievo e alla capacità di fascino che questi studi sul patriziato veneziano esercitano ancora oggi a distanza di molti anni grazie dell'attenzione grazie per molti spunti che valebbe la pena di riprendere spero ci sarà il modo al momento della discussione di poterlo fare è una cosa che forse vale la pena mi permetto solo di dire ecco sotto il profilo del metodo e che era molto intrigante anche nel passaggio della loro rarità alla scrittura da una scrittura più ravvicinata e fra le righe quasi come ha detto anche Marco Bellabarba e cioè talvolta si doveva decifrare qualche messaggio non propriamente come dire una scrittura leostraussiana sia ben chiaro il dettato di Cozzi era sempre molto limpido ma certo possedeva anche una carica come dire polisemica o allusiva che meritava come dire una seconda lettura o come diceva lui una lettura con la penna in mano ecco un'altra cosa che volevo dire era questa della posizione di categorie così nettamente distinte quasi dicotomiche Marco ne ha citate alcune potremmo anche dire ma mi piacciono dello sito stamattina ma ci sarà modo di sentirlo forse anche oggi pomeriggio a proposito delle questioni sarpiane i riformati e i cattolici i saggi molti saggi ma quelli contenuti in paolo sarpi fra venezia e l'europa giocano esattamente sull'ambiguità cioè Cozzi poneva con grande nettezza anche proprio come dire nella declaratoria di alcuni saggi nell'avvio nel passo di partenza queste categorie molto nette questi due estremi quasi però poi nel lavoro complicava continuamente e forse come dire la parola finale lasciava aperto ancora altre possibili oscillazioni e questo era un discorso per così dire ermeneutico o di metodo che mi pare anche questo molto interessante molto spesso in una astrografia italiana che invece procedeva un po' con l'accetta in modo apodittico e un po' forse gli storici fanno così ecco voglio dire e quindi ecco sottolineerei veramente questo aspetto che si potrebbe riprendere su diversi livelli a diverse dimensioni insomma cosa vuol dire ecco ha ragione Marco poi probabilmente mancavano degli strumenti che gli avrebbero potuto consentire di sciogliere qualche dilemma ad esempio Cozzi rimane totalmente estraneo alla dimensione di lavori che allora si potevano chiamare prosopografici o alla francese o all'inglese sul patronage sui networks ricordo per esempio la sua estraneità o la sua nettissima contrarietà anche molto polemica di fronte a un saggio che cercava di mettere in luce la composizione scritto è un saggio anche interessante uscito tra l'altro nella rivista della fondazione Cini che metteva in luce ne parlavamo qui vedo che accenna Luciano Pezzolo e metteva in luce esattamente cercava di dire ma chi sono questi vecchi e i giovani e lui aveva in realtà questa mancanza di un dialogo concreto su categorie ha detto Marco relative all'astrografia anglosassone e anche questo una cosa abbastanza particolare e sostanzialmente ma produttivamente contraddittoria per cui lui leggeva continuamente i libri inglesi ad esempio conosceva il libro di Conrad Russell sulla composizione dei partiti nel lungo parlamento inglese del seicento in cui queste cose emergevano però come dire c'era un apparato concettuale e probabilmente anche etico-politico quello che definisce questa generazione che non gli consentiva di mettere in azione degli stimoli fecondi che lui riceveva quindi questo è un dilemma che hai fatto bene a cogliere che andrebbe sciolto in tante in tante altre dimensioni abbiamo sentito che questa Marco ha accennato non diciamo a questa estraneità ma a questa empatia minore ecco direi così per la dimensione sociale cosa questo voglia dire ecco abbiamo Luciano Pezzolo ha deciso che valeva la pena di riflettere anche su questa dimensione o chi ha organizzato insomma ecco e quindi grazie allora intanto vediamo che sono sì si sente sì si sente allora innanzitutto ringrazio per l'appunto Luciano Pezzolo e gli organizzatori per questo invito e per avermi proposto di presentare un bilancio storiografico su un tema la cui vastità è a dir poco impressionante e devo dire così in passant basta vedere anche le recenti più recenti e meno recenti ma insomma le ultime sintesi che sono state fatte sulla storia veneziana e penso alla storia di Venezia Treccani o al recente Handbook of Venetian History curato da Dursteller per vedere il peso il posto l'importanza che ha preso appunto nel tempo la storia sociale allora possiamo anche chiederci che cosa non sia storia sociale però questo è un altro discorso quindi un bilancio impressionante al punto che sarà ben difficile rendere conto in questa sede di tutti i nuovi temi e approcci che sono sorti negli ultimi 60 anni perché io sono nata fino al 2020 e quindi vi prego di perdonare le inevitabili e involontarie omissioni allora Daitano Cozzi sarà meno presente nella mia relazione appunto Lucio ha detto che Cozzi non era uno storico sociale però sarà presente perché ha lanciato veramente da pioniere una serie di input di cantieri che poi sono stati sviluppati e da questo punto di vista ha avuto un ruolo estremamente importante dunque dicevo una produzione massiccia italiana e non italiana molto anche non italiana sulla sulla storia sociale veneziana che ha sostanzialmente rinnovato il panorama storiografico che ha aperto nuovi campi di ricerca in cui come è accaduto anche altrove fanno la parte del leone le fonti giudiziarie per la storia sociale e qui apro una piccola parentesi sulle fonti archivistica direi perché i notai che sono un'altra importantissima fonte per la storia sociale come sappiamo sono ancora poco usati se non per i testamenti nel caso veneziano perché sono un giacimento enorme di difficile accesso e quindi in un certo senso è stato abbiamo un esempio che è Gigi Corazzol nei suoi appunto fitti e livelli a grano in vari articoli che ha appunto aperto questa strada e che si cerca adesso direi di proseguire comunque torniamo appunto al diritto alle fonti giudiziarie appunto alla questione giuridica e quindi giudiziaria quindi il ruolo è stato detto ed è verissimo è importantissimo il ruolo di Cozzi nel rinnovare profondamente le nostre conoscenze su questo diritto veneziano così particolare come è stato ampiamente detto questa mattina dunque il ruolo di Cozzi per nell'aprire di rinnovare le conoscenze e il ruolo dei suoi allievi prima di tutti Claudio Povolo che c'era stamattina non c'è più e più generalmente gli storici e le storiche che hanno lavorato poi con Cozzi che hanno accettato la sfida di verificare l'applicazione delle norme attraverso le fonti appunto giudiziarie perché insomma queste norme anche se erano consuetudinarie e si parla di diritto scritto e diritto non scritto insomma in fondo molte erano scritte quindi due volumi su Stato, Società e Giustizia nella Repubblica Veneta secoli 15-18 a cui ha accennato anche Marco Bellabarba prima usciti appunto nel 1980 e nel 1985 hanno aperto veramente una nuova stagione di studi non solo appunto sull'organizzazione della giustizia ma sui ceti subalterni su quel popolo veneziano e veneto di cui si sta tornando a parlare molto negli ultimi anni in quei due volumi ci sono i lavori di Scarabello sui carcerati ci sono i lavori sui galeotti ci sono le donne della giustizia penale di Madil Gambier ci sono i banditi cioè c'è appunto tutta un'attenzione grazie a questo uso delle fonti su tutti i ceti ecco della società veneziana allora storia sociale innanzitutto è stato ricordato ieri e lo sappiamo benissimo esiste dal 55 un istituto per la storia della società e dello stato veneziano e le ricerche sulla società veneziana la sua cultura materiale sul lavoro e anche sulle donne hanno una tradizione antica nel caso di Venezia al punto che Peter Burke ha potuto definire la storia di Venezia nella vita privata di Pompeo Molmenti un'opera di storia sociale è discutibile ma insomma è un segno di come questa attenzione ci fosse una cosa vorrei dire anche se non è non era mio compito parlare di patriziato infatti ne parlerò solo da un punto di vista appunto di storia sociale ma molto a lungo la storiografia veneziana si è verita si è concentrata sul patriziato per l'appunto e sulla sua capacità effettiva di forgiare i destini della Repubblica ovviamente mi pare anche mi pare che questo sia vero anche quando questo il giudizio sul patriziato è estremamente critico e penso alla società veneta nel settecento di Marino Berengo che è del 1956 e la Nobiltà e Popolo di Angelo Ventura che è del 1964 e in cui i protagonisti erano anche gli altri ceti sociali in particolare appunto il popolo di Ventura quello che mi sembra di poter dire a proposito della storia sociale del patriziato veneziano è che la caratteristica delle ricerche degli ultimi decenni ormai sia stata quella di decostruire per l'appunto l'unità del blocco patrizio e ne ha mondantemente parlato Marco Bellabarba quindi sia mettendone appunto in rilievo le tensioni interne giovani e vecchi di Gaetano Cozzi ricchi e poveri case vecchie case nuove ducali e non ducali eccetera sia interrogandosi sulla costruzione stessa del ceto patrizio sia le sue origini e ricordo il titolo del saggio di Stanley Hoenachki del 75 uscito nel 75 in Renaissance Venice In Search of the Venetian Patriciate sia nella sua quindi sia nelle origini nella costruzione sia nella ridefinizione e ricomposizione successiva al momento delle aggregazioni quando fu necessario condividere potere e privilegio con nuovi venuti pronti all'acquisto della tradizione per citare i titoli di lavori di chi se ne è occupato e pensa citavo i titoli di articoli e libri di Dolly Traines di Roberto Salbadini ma anche un'altra forma di decostruzione dal punto di vista della storia sociale del patriziato interrogando la demografia e qui ci sono stati i lavori di Renzo De Rosas e c'è stato soprattutto il libro di Volker Hunecke che sulla base di nuove e dettagliate ricerche nei registri parrocchiali a mio avviso ci fa propendere più che per un suicidio demografico del patriziato e per un suicidio politico ovvero lo sposare il procreare con donne non atte a procreare figli a procreare membri del maggior consiglio che poi ci riporta al tema delle rivolte dei figli contro i padri che Gaetano Cozzi aveva indagato nel saggio padri figli e matrimoni clandestini del 1976 e che sono stati un tema che è stato ripreso in anni recenti da Tiziana Plebani un secolo di sentimenti amore conflitti generazionali nel mezzo del settecento se non erro del 2012 quindi tensioni interne costruzione ricostruzione declino del patriziato e centralità in queste ricerche appunto degli ultimi decenni delle donne del ruolo delle donne patrizie o piuttosto delle donne nel patriziato patrizia e no per l'appunto nella costruzione dell'identità patrizia sia dal punto di vista giuridico come indagato da Stanley Khojnacki e in seguito per l'età moderna da Alexander Cowan e il loro ruolo socio-economico su cui si sono soffermati molti studi a partire delle figure di queste wealthy influential patrician mothers potenti grazie ai loro doti che destinavano alle figlie talvolta lasciando loro maggior libertà di quel che si potesse pensare come ha dimostrato Federico Ambrosini nel suo saggio in Venice Reconsidered del 2000 il raccolta curata da Martini romano ma non sempre non lasciando sempre questa libertà e qui penso alle monacazioni forzate studiate da Utah Sperling da Francesca Medioli da Mary Levin e ai conflitti madre e figlia che sono stati ad esempio indagati da Alessandra Sambo il processo di decostruzione dell'identità patrizia ha anche riguardato le identità maschili e penso in particolare al saggio di Stanley Kainacki del 1994 sui patriarchi subalterni che non ha mi sembra poi generato un filone ma che potrebbe generarlo altro tema di rivisitazione dal punto di vista della storia sociale del patriziato la question della trasmissione dei beni e in particolare il fede commesso che alla luce delle ricerche più recenti di Paola Lanaro e Jean-François Chauvard è risultato essere un meccanismo molto più duttile e adattabile di quel che precedenti opere avevano ipotizzato e penso naturalmente ai donà di James Cashman Davis perché questa concentrazione della storia sociale ed economica sul patriziato penso che vada vista in relazione a due ingombrantissimi blocchi storiografici tematici e storiografici su cui la storiografia veneziana si è dovuta a lungo interrogare e continua a interrogarsi in realtà ovvero da un lato il problema della decadenza che ha ricadute evidenti sulla storia sociale nel momento in cui ci si interroga sulle attività economiche i livelli di ricchezza e povertà e non vi è dubbio che la relativizzazione del declino abbia anche comportato la messa in luce delle possibilità di azione degli individui e la varietà delle stratificazioni sociali nella capitale e nello Stato ho citato all'inizio due ricerche appunto Ventura e Berengo che hanno avuto fra i molti i loro meriti anche quello di studiare lo Stato da terra dal punto di vista della storia sociale e non c'è dubbio che si siano moltiplicate negli ultimi decenni le ricerche di storia economica e sociale sulla terraferma sui paesi le campagne le città e le quasi città titolo del libro di Anna Pizzati su Conegliano e parliamo della ricerca sulla campagna trevigiana della fondazione Benetton di cui si è parlato ieri che è stato per molti di noi sicuramente per me una vera palestra di storiografiche in cui ci si trovava e dovevamo fare delle relazioni mensili in cui appunto c'era una presenza importantissima di Gaetano Cozzi e anche una presenza appunto tu hai parlato di comitato di pietra ma insomma di non ufficiale che era quella di Marino Verengo per l'appunto ed era veramente un luogo in cui molti di noi veramente sono cresciuti quindi la terraferma e tutte le ricerche che Claudio Povolo ha coordinato per un certo periodo grazie anche istituzioni locali le famose due ville eccetera sulla storia di paese che hanno analizzato la stratificazione sociale la mobilità sociale a livello locale e il punto a cui questa potesse arrivare e anche le possibilità di ascesa dal locale alla capitale verso la capitale per l'appunto dal punto di vista più strettamente economico le ricerche degli ultimi anni hanno messo l'accento sullo sviluppo agricolo e manifatturiero delle città e campagne della terraferma il ruolo delle elite locali i nobili e le nobili che producevano seta che le esportavano a Vicenza e Verona eccetera ma anche dei contadini conduttori di terra e e ritorno alle ricerche di Claudio Povolo hanno delineato il ritratto di una nobiltà di terraferma estremamente conflittuale estremamente inquieta anche in campo religioso l'altro grande blocco tematico è quello del mito politico naturalmente uno delle cui componenti fondamentali è la politica sociale della Repubblica titolo della versione italiana di Rich and Poor in Renaissance Venice scusate di Brian Pullen che è del 1971 che conclude il suo libro alla pagina 641 con questa frase Il mito ha certamente perso potere ma l'organizzazione dell'assistenza a Venezia delineata da Pullen non è stata smentita mi sembra dalle ricerche successive in realtà forse non così numerose che sono concentrate sulla rete di iniziative e istituzioni assistenziali legate a specifiche occupazioni come il lavoratore dell'arsenale a confraternite a corporazioni a ospedali la pietà per esempio mettendo in rilievo anche delle centricità veneziane e penso alla tesi di dottorato poi diventata un librone di Caroline Girón Panel sugli ospedali in cui erano educate le figlie del coro alcune del quale divennero delle cantanti di fama al di fuori dell'istituzione che evidentemente era del tutto contrario alla funzione di queste istituzioni il cui scopo era quello di educare delle orfane a essere buone mogli e madri e non certo esibirsi sulle scene teatrali questo tema della stabilità politica è stato recentemente rivisitato mettendo in luce forme di critica e di rivolta più o meno larvate più o meno che più direi a partire da un approccio di state building from below e di popular politics su cui tornerò naturalmente confrontarsi con il mito ha anche significato approfondire la ricerca su tutto quello che nella società veneziana non era patriziato e interrogare la divisione tradizionale della società urbana nei tre ordini di patriziato cittadini e popolo e si può certamente affermare che le ricerche di storia sociale si sono sempre più interessate ad altri gruppi sociali la cui definizione tuttavia è apparsa molto meno netta e precisa dell'epoca in cui ci si interrogava sul dilemma ordre e classe titolo del convegno di Saint-Claude del 1967 i cittadini veneziani hanno attirato l'attenzione di una generazione di storici alla quale appartengo che dalla fine degli anni 80 al secolo scorso alcuni di loro grazie al seminario di Reinhold Müller che ha prodotto l'importante database CIVES hanno cominciato a interrogare l'identità o le identità dei cittadini veneziani la costruzione eccettuale della burocrazia come gruppo definito da un tipo specifico di cittadinanza originario da tre generazioni senza condurre arti meccaniche e senza aver subito condanne e penso naturalmente al libro di Andrea Zanini e a saggi di Giuseppe Trebbia e Matteo Casini sia a un certo punto scontrata con l'incertezza delle definizioni e dell'identità con quel per cittadini metterete dei censimenti da cui risulta che un cittadino della parrocchia di Santa Lucia è diverso da un suo teoricamente omologo della parrocchia di Sant'Angelo l'analisi approfondita dell'evoluzione legislativa della prassi di riconoscimento del titolo del cittadino ha dimostrato che l'elite degli originari siano essi impegnati in cancelleria in altri uffici nella mercatura o nelle professioni è una piccola parte dell'insieme della cittadinanza dato che in realtà ogni nativo di seconda generazione aveva accesso ai privilegi fiscali relativi al commercio con Levante cosa vuol dire? questo vuol dire che come altrove la cittadinanza era uno strumento che poteva essere usato una condizione che poteva essere attivata se ce n'era la possibilità e la necessità e secondo me c'è ancora un equivoco che persiste nel distinguere popolo e cittadini originari fatta salva la distinzione da un lato fra gli originari di seconda e terza generazione e dall'altra ovviamente fra originari e stranieri in una città che come molti hanno scritto da Cominna a Machiavelli in poi era abitata più da stranieri che da nativi seconda corona della veneta repubblica o gentiluomini popolari come essi stessi si definivano l'elite dei cittadini stringeva legami con il patriziato attraverso matrimoni e associazioni mercantili in un contesto tuttavia come scrisse uno di loro Alessandro Ziliol nella prima età del 600 in cui cito nienuno che non sia di consiglio potrà nobiliarsi o aggrandirsi per via di mercature perciò che essendo in estrema cresciuta la potenza particolare del cittadino di consiglio cioè di maggior consiglio et l'insolenza in molti hanno chiuse et vanno chiudendo tutte le strade per le quali il popolare o d'altro possa spuntare avendo loro per mira che altri non si faccia troppo grande et al tirare in sé coi parentadi et altre vie le ricchezze tra il popolo sparse al qualfine hanno et si andio procurato sempre che in Venezia siano manco naturali ai cittadini che sia possibile e gli è riuscito perciò che non credo che in Venezia vi siano 6.000 veneziani antichi adesso ce ne sono 49.900 ma non antichi non necessariamente dunque frazione dominata della classe dominante quanto e ancor più lo furono quelle donne colte dello stesso ceto che espressero in maniera talvolta drammatica come Arcangela Tarabotti e talvolta ironica come moderata fonte una lucidissima critica al sistema dotale matrimoniale della serenissima repubblica e persino nella politica demografica del patriziato piuttosto che acquistare un marito meglio acquistare un porco a carnevale scrive moderata fonte piuttosto che rinchiudere le figlie in convento per evitare la procreazione di troppi membri del maggior consiglio meglio uccidere i figli maschi alla nascita difficile affermare che a Venezia non esistesse critica o che queste affermazioni non abbiano un significato politico e se moderata fonte fu pubblicata poco dopo la sua morte si dovete attendere il 1990 le ricerche di Francesca Medioli per avere un'edizione dell'inferno monacale di Tarabotti la definizione dell'essere cittadini è apparsa insomma più complessa e sfuggente le determinazioni giuridiche sono risultate distinte dallo status sociale per cui poteva essere trattato da cittadino anche un foresto in certe circostanze purché ben inserito in città o perché come tale veniva definito trovandosi nelle terre del dominio da mar e anche in questo caso l'identità femminile giocava un ruolo importante nella trasmissione della cittadinanza agli immigrati con la genealogia degli aspiranti agli uffici di cancelleria ed anche in questi gruppi le doti delle mogli e le scelte successorie delle madri incidevano sui destini economici delle famiglie il ceto dei mercanti non patrizi professionisti dei funzionari costituiva un ceto medio a lungo bloccato nelle sue aspirazioni di accesso al patriziato almeno sino alle aggregazioni seicentesche delle quali poteva approfittare però come sappiamo solo in parte lo studio delle mobilità sociali si è esteso includendo non solo la mobilità verso il patriziato ma anche la mobilità che restava all'interno dei ceti non nobili da cittadini a cittadini originari abilitati alle cariche burocratiche ma anche nel mondo artigiano e penso al saggio di Ugo Tucci su carriere popolane di dinastie di mestiere negliati dattini del 1990 come uno dei primi esempi in tale direzione una direzione non facile da seguire come sa chiunque si sia avventurato ricerche sui ceti subalterni cosiddetti a questo proposito la storia del lavoro a Venezia è un enorme capitolo che ha un'antica illustre tradizione anch'esso e vorrei citare semplicemente il libro notissimo di Daniele Beltrami sulla demografia del 54 che resta un punto di riferimento forse con molti errori poi quantitativi ma insomma per l'uso pionieristico di fonti quantitative su cui si è tornati di recente come gli accordi di Garzonato della giustizia vecchia quindi ricerche di giovani e meno giovani storici e storiche hanno fatto luce sull'organizzazione di singoli mestieri ma anche sulle relazioni gli spazi di socialità i ruoli familiari del mondo artigiano veneziano fosse esso compreso o meno come nel caso della gran maggioranza del lavoro famiglia nelle corporazioni l'accento è stato messo di recente su episodi di conflittualità tra mestieri ma anche conflitti fra maestri e mercanti per esempio sulla missione delle donne nelle corporazioni o come nel caso dei lavoratori dell'arsenale su rivendicazioni salariali il libro di Robert Davis Shipbuilder su The Venetian Arsenal è del 1991 ed era uno dei corpi come sappiamo maggiormente privilegiati e protetti dalle politiche statali un'accezione più vasta del concetto di linguaggio politico e di rivendicazione di tipo politico è alla base di ricerche recenti e penso ai saggi contenuti nel volume Popular Politics curato da Marty Van Gelder e Claire Jules de la Rivière che è uscito due anni fa che sono date l'obiettivo di superare l'immagine di Venezia come luogo del silenzio politico per citare Jakob Burgert Venezia come sappiamo a differenza della terraferma non fu mai teatro in età moderna di rivolte popolari e le croniche coeve hanno certamente contribuito a costruire questa immagine facendone un altro aspetto del mito le relazioni clientelari reti di informazione in tutti i livelli della società scambi fra patrizi e popolani anche oltre il XIV secolo che è oggetto dell'omonimo libro di Dennis Romano dell'87 o se ancora la struttura della città la struttura urbana abbiano influito su questo esito di pace sociale non è chiaro mi sembra ma se il modello che è stato sviluppato in particolare per il nord Europa diciamo dello state building from below ha il merito di reintrodurre i ceti subalterni nella costruzione statale mi sembra che rischi tuttavia di riconfermare una visione idealizzata di un governo in grado di gestire il conflitto anche grazie a questi scambi verticali fra patriziato e popolo oltre alle mobilità sociali le varie mobilità geografiche sono state oggette di nuove ricerche e ruode le comunità e minoranze religiose risaminate da studi recenti penso al libro di Philippe Brandstein sui tedeschi e il fontego al recentissimo libro di Renata Segre sugli ebrei veneziani per esempio così come le interazioni di forestieri immigrati bergamaschi come olandesi greci o tedeschi con la popolazione urbana e penso alle ricerche di Armando Orlando sui matrimoni fra greci e veneziani e per venire al presente il progetto in corso di Jean-François Chauvert sui processetti dell'archivio patriarcale le complesse relazioni fra il punto di partenza e punto di arrivo le tappe intermedie il mantenimento di contatti relazioni lavorative di proprietà con la patria di origine sia esso una ballata alpina un'isola ionica una città imperiale sono diventate un elemento centrale di questi studi così come è avvenuto in altri contesti contribuendo anche in questo caso a complicare un'immagine troppo rigida del concetto di appartenenza e identità in una società di antico regime forse più fluida e aperta di quello che si potesse pensare anche senza esagerare naturalmente un altro tema di storia sociale su cui molto è stato fatto negli ultimi anni è la storia della famiglia un argomento su cui lo stesso Cozzi aveva scritto dei testi innovativi e pensato alle ricerche sui matrimoni patrizi già citate ma soprattutto al saggio sul divorzio alla fine della Repubblica i conflitti familiari nel patriziato come si è accennato ma anche al di fuori si ritrovano nelle grandi inchieste sui tribunali del matrimonio pubblicate in cui ci sono vari saggi su Venezia da Silvana Salidelmenchi di Eucuaglioni all'istituto storico italiano-germanico di Trento e nelle ricerche dei libri John Ferraro da Dina Hache Cecilia Cristellono l'uso di fonti giudiziari ha permesso con tutte le cautelie del caso come è noto sin dalla polemica fra Michel Foucault e Carlo Ginzburg alla fine degli anni 70 di fare emergere la parola dei ceti subalterni e delle donne e non vi è dubbio che le ricerche di storia delle donne di genere su Venezia siano moltiplicate in anni recenti a parte da molti punti di vista ad esempio il lavoro mettendo in rilievo il loro ruolo nei mestieri artigiani e nel commercio anche in certi casi delle donne del patriziato altri temi che sono stati indagati la vita sociale e possiamo citare come uno dei primi libri esplicitamente dedicati alle donne del popolo veneziano Working Women in Early Modern Venice di Monica Hoinacca del 2001 o ancora la vita pubblica e ricordo il volume curato da Nadia Filippini Donne sulla scena pubblica fra 7-800 che è del 2006 e inoltre le ricerche sulla dote la proprietà della trasmissione dei beni in tutti i ceti sociali e si potrebbe continuare a lungo e le proto-femministe veneziane per l'appunto di cui ho parlato prima resta ancora molto da fare ma dobbiamo anche in questo caso credo e paradossalmente fare attenzione a non creare un nuovo mito di Venezia al femminile la storia della società ha integrato nuove tematiche rovesciando il focus che non è più il patriziato per l'appunto e il suo intersecarsi a livello di storia familiare oltre che di ruoli politici con lo Stato ma piuttosto le varietà dei comportamenti dei diritti di relazione naturalmente questo non deve tradursi in ignorare la realtà della stratificazione sociale e il problema del conflitto parlare di donne non significa aggiungere un capitolo un paragrafo una storia istituzionale vecchia maniera add women and steer come si dice ma rivedere alla luce di ruoli di genere i comportamenti sociali il funzionamento stesso della società i sistemi di alleanza e trasmissione dei beni i diritti l'organizzazione del lavoro la frammentazione degli approcci dei temi e la crisi dei grandi modelli interpretativi è una caratteristica della storiografia degli ultimi decenni in particolare nell'ambito della storia della società la micro storia che come sappiamo è stata brillantemente rappresentata negli studi sullo Stato veneziano in fondo i benandanti e Menocchio erano parte dello Stato veneziano ha affermato dalla fine degli anni 70 la valenza euristica della ricerca sull'individuo sui microcosmi il valore della biografia come genere in grado di far luce sui contesti sino a rivendicare un possibile interscambio tra microstoria e storia globale vorrei concludere spezzando una lancia in favore della comparazione specialmente appunto nell'ambito della storia delle società perché ritengo che questa città a volte che per questa città a volte sia controproducente continuare a considerarsi unica e appunto non comparabile e niente bisogna continuare a coniugare ricerche in profondità sulle fonti e prospettiva comparativa ritengo per quanto mi riguardo non necessariamente in senso globale grazie molto grazie Anna per questa rassegna così ampia e interessante condivido diverse cose che come dire suggerisco anche all'attenzione di chi ascolta per qualche intervento voglio dirne soltanto anch'io anche come dire dicendo quel che penso anch'io ritengo che si debba lavorare su questo aspetto della comparazione è un problema di scala è un problema di angolo visuale è un problema di raffinamento delle fonti che si devono comparare ma è una cosa che si deve fare pena l'incomunicabilità con altri che stanno lavorando su altre cose in altri luoghi del mondo e devo dire che la forza del mito veneziano è stata anche quella però questo bisogna ammetterlo e cioè quella di impressionare talmente i lettori del mito e cioè gli storici da fargli veramente credere che ci siano dei mondi così differenti e imparagonabili quindi io sono d'accordo con te su questa riflessione d'accordo anche sull'allargamento degli ultimi vent'anni dico solo intanto dicendo di prepararsi va bene allora puntualissimi riprendiamo Vincenzo Lavenia dell'Università di Bologna ci parlerà di Sarpi degli studi Sarpiani dunque chiudiamo con un argomento Cozziano per eccellenza insomma e oggi sentiremo le considerazioni di Enzo Vincenzo Lavenia anche lui si è occupato di non poche cose da una ricerca molto cospicua sulla dottrina della seconda scolastica a proposito come dire dei rapporti tra fiscalità e poteri in un'ottica teologico-politica a saggi più recenti sulla storia italiana dell'età della controriforma del controllo sociale del disciplinamento della storia dei corpi una ricerca che abbiamo avuto il piacere di presentare in un mio corso e insomma io sempre mi auguro che veda una veste veramente è una ricerca su questo falso storico clamoroso cinquecentesco della scoperta dell'invenzione della sentenza di morte di Gesù Cristo sulla quale Vincenzo ha condotto una inchiesta eruditissima microanalitica micro storica che insomma speriamo veda la fine e in più Vincenzo è uno dei autori di una delle opere più straordinarie dell'astrografia italiana degli ultimi vent'anni e cioè del dizionario storico dell'inquisizione non solo dell'inquisizione italiana Italia moderna apposta va bene allora Enzo mi pare di non aver trasciato nulla ma anche tu come Marco siete un po' troppo ampi nei vostri interessi e quindi si teme sempre di lasciare qualcosa da parte allora Enzo a te la parola grazie è acceso il microfono si si è sempre acceso intanto avrete capito che Alfredo Vigiano è un amico quindi dimenticatevi tutto quello che ho detto che ha detto perché non mi sono occupato mai di di Sarpis non per una ricerca sul giuramento e sulla scomunica nel senso che il mio libro sulla seconda scolastica si chiudeva appunto con Paolo Sarpi perché è anche una storia della scomunica oltre che dei rapporti ho tentato di fare una storia della scomunica anche o perlomeno delle polemiche sulla scomunica in età moderna questo c'entra molto ovviamente con la storia dell'interdetto veneziano rispetto intanto ringrazio Luciano Pezzuolo per avermi messo in questa difficile situazione non essendo uno studioso di Venezia e ovviamente Gerardo Ortalli per la sua solita squisita ospitalità in questa sede in cui ho la terza o la quarta volta che vengo e mi piace anche dire in due parole che ho avuto la fortuna di conoscere Cozzi al mio primo convegno avevo 25 anni ero molto intimidito e mi sentivo un pesce fuor d'acqua alla fondazione Cini e mi ricordo che lui venne con una sedia a rotelle e mi si avvicinò a chiacchierare e ho rimasto abbastanza nel senso mi intimidiva molto Paolo Cozzi Gaetano Cozzi scusate e Paolo Sarpi e Cozzi non c'è niente da fare siamo davanti alla stessa persona cioè una ebbina però mi fece una una grande emissione lo ricordo con molta anche se è stato l'unica volta che ho avuto la fortuna di incontrare e al contrario di chi mi ha preceduto non farò una rassegna degli studi successivi a Gaetano Cozzi riguardanti Sarpi non lo faccio quasi per una questione scaramantica cioè il prossimo anno è il centenario della morte il quarto centenario della morte di Sarpi sospetto che uscirà una quantità smisurata di studi quindi lo ritengo altamente inutile farlo se si pubblicheranno gli atti di 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 questa giornata di studio farò in modo di tenerne conto ma certamente ciò che viene dopo come dire non si può spiegare senza gli studi appunto di Gaetano Cozzi su cui ha già riflettuto prima di me cito solo Giuseppe Trebbi in un saggio su Cozzi e la controriforma pieno di sottigliezze e sappiamo anche che la produzione su Sarpi è una produzione diciamo della prima se dobbiamo proprio dividere a metà l'attività e non va fatto di Cozzi Sarpi predomina fino al 1980 poi in qualche modo si eclissa perché gli studi sulla giustizia è stato detto più volte prendono decisamente il sopravvento dalla fine degli anni settanta per la verità nel modo con cui lui ricostruisce nelle sue pagine autobiografiche questa vicenda non è esattamente così lui dice che in realtà comincia a occuparsi degli esecutori contro la bestemmia già dalla fine degli anni cinquanta che questa cosa lo distrasse l'aveva distratto dallo studio di Paolo Sarpi ho guardato l'elenco fatto da altri per la fondazione Benettona da Zannini mi pare della sua bibliografia e semplicemente ammettere fare un elenco di quello che scrisse negli anni cinquanta non è così cioè la gran parte degli studi sarpiani si colloca esattamente lì si colloca dopo la tesi è stata più volte citata discussa con Enrico Besta per storia del diritto italiano nel 1949 all'università degli studi di Milano Paolo Sarpi e le sue relazioni tra Stato e Chieso un titolo tradizionalissimo mi risulta inedita correggetemi se sbaglio e mi chiedevo se non fosse il caso anche di fare un piccolo omaggio a Sarpi e alla memoria di Gaetano Cozzi ripubblicandolo non so se l'avrebbe gradito Cozzi e non so se il testo esista ecco dove spero di andare se facciamo gli atti di questo punto mi piacerebbe io non ho avuto tempo di farlo e neanche di sondare i carteggi a cui faceva allusione Varanini prima ma ci incroceremo su un punto poi lo dirò dopo quindi discute questa tesi dopo torneremo sul contesto dopodiché è una sequenza di saggi su uno mi soffermerò dopo è il primo Paolo Sarpi il suo problema storico religioso e giuridico nella recente letteratura che uscì su una rivista minorissima per citarti nel 1952 il diritto ecclesiastico si chiama poi c'è il saggio sull'anglicanesimo all'istoria del concilio di Trento il primo sulla rivista storica italiana quello sulla morte di Paolo Sarpi nella miscellana in onore di Cessi poi c'è quello sui carteggi quando Cozzi comincia ad occuparsi dei carteggi di Paolo Sarpi con Filippe Canet e con Isacca Zahubon siamo nel 1959 Jan van Meers siamo sempre nel 59 l'eroica amicizia ci torniamo dopo siamo nel 60 perché è anche quello un saggio sarpiano c'è un medaglione di Sarpi che è straordinario ci torniamo dopo Paolo Paruta Sarpi è la questione di Ceneda e qui andiamo sul terreno concreto dei rapporti tra potere ecclesiastico e potere secolare se vogliamo dividere con l'accetta questa storia siamo nel 62 un'opera sconosciuta di Paolo Sarpi è critica storica qui c'è la collaborazione con Armando Seitta del 64 poi abbiamo il saggio su Galilei Sarpi e la società veneziana che confluirà nella raccolta del 79 poi comincia l'edizione dei testi comincia dal mare comincia dalla questione degli uscocchi e dal trattato di pace e accomodamento che furono curati insieme da Gaetano e Luisa Cozzi nel 65 per la collana degli scrittori d'Italia della La Terza dopo c'è lì un saggio nella Cecchi Sapegno nella letteratura italiana Cecchi Sapegno a cui collaborò anche Cantimori nel momento in cui Cantimori si spostò diciamo così sulla storia della pietà ma anche sulla fase ultima diciamo del dissenso religioso italiano e poi le opere su cui ci soffermeremo a lungo 1969 le opere come sapete hanno una seconda edizione del 97 in cui c'è un aggiornamento fatto da Corrado Pin dopodiché diciamo la produzione sarpiana in qualche modo si dirada c'è la voce Paolo Sarpi nel dizionario critico della letteratura italiana 73 c'è un ricordo di Giovanni Gambarin che in qualche modo ha a che fare anch'esso con la produzione sarpiana di Cozzi e siamo nel 1977 e poi c'è Paolo Sarpi tra Venezia e Europa inedito che confluisce come terzo saggio nella raccolta Reinaudi del 79 tornano Gaetano e Luisa in questo caso con una voce su Paolo Sarpi nella storia della cultura veneta di Arnaldi nel volume sul 600 siamo nell'84 poi siamo al 1990 e da lì in poi non mi pare che ci siano altri interventi sarpiani ma ci sono riflessioni su Paolo Sarpi successive dopo ci torno e diciamo Sarpi compare a proposito dei gesuiti a Venezia nel celebre volume curato da Mario Zanardi dal compianto Mario Zanardi negli atti appunto che uscirono poi nel 94 sui gesuiti a Venezia in tutta questa storia centrale è la questione religiosa perché per Cozzi il nodo è sottrarre a me pare sempre Paolo Sarpi alle forme dell'ortodossia soprattutto dell'ortodossia cattolica insomma in qualche modo sottrarlo a una normalizzazione tentata soprattutto dai confratelli di Paolo Sarpi da una storiografia tutta interna all'ordine dei servi di Maria con cui lo vedremo meglio Cozzi polemizzò immediatamente da giovanissimo dal suo primo saggio da una definizione delle posizioni religiose o perlomeno dottrinale di Sarpi Cozzi nella sua produzione successiva la mia risposta è no c'è sempre un terreno scivoloso nel modo con cui definisce la posizione religiosa di Paolo Sarpi certamente non cattolico ma sulle definizioni sui posizionamenti quello che conta ed è questa la lezione più importante degli studi di Cozzi su Sarpi e il contesto diciamo in qualche modo a spiegarci i posizionamenti e l'evoluzione anche di un Sarpi che non fu stabile nel corso degli anni nelle sue posizioni religiose Cozzi non scrisse mai come sapete una biografia di Paolo Sarpi io sono convinto che la vera biografia di Paolo Sarpi scritta da Cozzi sia proprio l'edizione delle opere con Gaetano e Luisa che è una biografia dall'inizio alla morte agli ultimi momenti della vita e scrisse invece lo abbiamo citato più volte una biografia su Niccolò Contarini Niccolò Contarini in qualche modo gli permette di affrontare un personaggio lungo un arco di tempo molto ampio e un personaggio lo dirà più tardi in alcuni ricordi autobiografici più semplice da definire rispetto a Paolo Sarpi quasi più facile anche da raccontare per certi aspetti perché la domanda che ci siamo fatti in tanti ma a cui ha dato una risposta Cozzi stesso studiare Paolo Sarpi nel 1949 ricordiamoci che Cozzi fece l'università in tempi molto ristretti se non mi ricordo male diede gli esami in 18 mesi e fu il suo modo di evitare lo racconta in una pagina autobiografica di lasciarsi andare sostanzialmente per la sua condizione materiale non facile e dunque fu una sorta di studio matto e disperato avrebbe detto un celebre poeta prima di lui che si conclusa con una tesi vuol dire sostanzialmente che siamo nell'arco del tempo che va dal 47 al 49 quando lo dirà poi successivamente in molte pagine autobiografiche Cozzi fu attratto dal radicalismo liberale sarebbe stato poi un grande lettore del mondo di Pannunzio liberale ma liberale supposizione diciamo di riforma e di apertura alle questioni diremmo oggi dei diritti civili anche se irritato diciamo dal protagonismo di Marco Pannella a cui dedica una riga piuttosto liquidatoria appunto nelle sue pagine autobiografiche era tratto dunque da Gobetti c'è questa quest'ombra solita della mancata riforma in Italia come paradigma con cui si è misurata gran parte della storiografia in misura maggiore o minore minore nel caso di Cantimori maggiore nel caso della storiografia crociano liberale soprattutto nella fase che precede l'avvento del fascismo e nella fase che segue la caduta del fascismo c'è poi il Calvino di Adolfo Omodeo lo attrae questa immagine di Calvino come educatore di libertà così lo si leggeva o perlomeno così lo leggeva Omodeo per cui Coz aveva una smisurata ammirazione ma c'è anche Iemolo lo dice almeno in due passi autobiografici il chiesestato di di Iemolo c'è c'è la c'è il fascismo c'è il fascismo e la convergenza anche che si era realizzata negli anni 30 tra la chiesa romana e il fascismo paradossalmente e mi stupisce per un non comunista come Paolo Cozzi come Gaetano Cozzi scusatemi ci si può fare non c'è mai un'allusione invece alla questione dell'articolo 7 cioè la discussione interna all'elaborato costituzionale italiano che per un uomo come lui che non ha mai avuto pengolamenti verso il partito comunista è piuttosto interessante ma io non credo che invece in qualcosa del genere non ci fosse nel tirare fuori Sarpi in quegli anni certamente Gaetano Cozzi avrebbe sottoscritto un'osservazione sarpiana che infatti pubblicò nell'edizione delle opere a pagina 316 sono le note alla traduzione della relazione di Edwin Sanz quando Sarpi scrive di un'Italia in cui la religione sarebbe stata trascurata e l'atteggiamento degli italiani costantemente supino rispetto al potere certamente non era il caso di Sarpi e Sarpi diventa un modo diciamo di abbandonare una sorta di traghetto per l'abbandono della storia del diritto come l'aveva conosciuta diciamo nelle facoltà e nei corsi di storia del diritto del tempo molto diritto medievale molto convento sui glossatori molta noia da quello che avrebbe detto successivamente perché certamente la sensibilità di Cozzi era fortissima per la storia del diritto ma che amasse la storia del diritto come la si praticava almeno fino agli anni 70 finché la scuola di Paolo Grossi in qualche modo non l'ha mutata in profondità in varie sedi italiane beh certo quella non era la sua strada e lui lo si intuì tanto che a leggere il saggio del 52 dal cui partirei e che Cozzi definì una specie di rassegna nella conversazione con Marco Folin cioè in realtà lo riduce sono andato a procurarmi non l'avevo mai letto vi confesso non so quanti in questa sala abbiamo letto il saggio del 52 immagino gli allievi è invece un saggio interessantissimo perché lì Cozzi si prende posizione si posiziona e cominge è davvero un piano di studi una sorta di piano più che quinquennale degli studi una bozza interpretativo in cui tenta di sottrarre Sarpi a tutta una corrente di studi che lo lascia insoddisfatto lo dirà poi meglio che cosa qual era la sua insoddisfazione rispetto allo stato degli studi su Paolo Sarpi all'altezza del 1952 quando in Venezia Barocca dirà in maniera sintetica e assolutamente chiara che voleva un Sarpi più europeo più inquieto e più dilatato nel tempo cioè meno legato semplicemente alla storia dell'interdetto per intenderci questo saggio quello del 1952 capisce benissimo che Cozzi non è attirato affatto dalle relazioni tra stato e chiesa nel senso in cui probabilmente ne aveva parlato lui stesso nella sua tesi che vorrei leggere che non ho ancora letto certamente non il Sarpi del Risorgimento il Sarpi della prima unità d'Italia il Sarpi di Cecchetti per intenderci il Sarpi giurisdizionalista non è il Sarpi giurisdizionalista a interessarlo non è la monumentalizzazione di Sarpi che gli interessa e infatti Gaetano Cozzi ha costruito un monumento Ere Perennios a Sarpi ma non l'ha mai cristallizzato nei suoi studi e ripeto la questione che predomina è quella religiosa sin dal saggio del 1952 come dirà Marco Folin aveva scelto una tesi su Sarpi cito perché sentiva nella crisi italiana una crisi ecclesiale una crisi di esperienza religiosa non è Cozzi il primo ovviamente a dare una lettura del genere della storia recente della storia contemporanea d'Italia se pensate che tutta la lotta diciamo tra gli ultimi anni dell'Ottocento e gli anni del fascismo era una lotta sulla storia d'Italia sotto le specie della riforma e della controriforma per intenderci Gobetti contro Leandro Arpinati Curzio Malatarte contro Giuseppe Saitta una congerie che immagino fosse abbastanza nota a Gaetano Cozzi che più di Cantimori che non credeva alla riforma mancata o perlomeno non è quello il nodo di Cantimori anzi credeva che il fascismo fosse l'inveramento della vera riforma questo è il Cantimori giovane fino alla scrittura degli eretici italiani del Cinquecento certamente Cantimori non era Gobettiano mentre Cozzi esordisce come persona pensante da la persona segnata appunto dalla lettura crociana e gobettiana il saggio è tutta una polemica come vi dicevo anche con la storiografia cattolica qui ci sarebbe da porsi il problema della religione non di Paolo Sarpi ma di Gaetano Cozzi mi ha colpito moltissimo tra i suoi ricordi autobiografici quello in cui Brodella a Venezia a un certo punto entra in una chiesa correggetemi se sbaglio e a un certo punto si inginocchia a pregare con lo stupore di Cozzi che lo guarda sorpreso a dire ma cosa è Fernando Brodella si inginocchia in una chiesa come se da storico italiano da storico di quella parte dell'Italia non potesse neppure concepire l'idea se posso solo interrompire certo e non interrompimi questa cosa perché si colava anche nella tradizione orale un po' arricchisce e compri continuamente ah sì scusa Brodella che è noto appunto come uno storico se non leggiamo positivista insomma dell'economia dei fatti economici entra in una chiesa mi pare di San Barnaba che era quella vicino a dove abitava lui e si commuove di fronte San Nicolo di Mendicoli ecco era vicino San Nicolo di Mendicoli e invece diceva quando veniva a Venezia a Fevra che ha scritto tutti quei libri sull'anima religiosa sull'utero così Brodella era assolutamente proprio la religione era una roba da superstizione di vecchine ecco questo è veramente molto interessante secondo me e lui è fevriano se posso dirlo davvero quasi nella testitura della pagina Cossi qui ci sarebbe da ragionare sulla questione dello stile che io trovo straordinario cioè uno legge le pagine del 1952 quando gli storici erano trinari giutissimi scrivevano in un modo che oggi sarebbe indigesto per qualunque persona abbia diciamo dai 55 anni in giù ma forse anche dai 65-70 in giù uno legge le pagine di Aetano Cossi primo saggio pubblicato non c'è neanche l'ombra intanto del birignao accademico e tanto più del birignao della storia del diritto e l'osservazione di una limpidezza di una capacità icastica straordinaria Marco diceva prima che trova la sua scrittura tormentata io al contrario trovo la sua scrittura assolutamente limpida e quasi saggistica nel senso di Montegna autore che Cozzi amava moltissimo lì ci sarebbe da capire quali fossero le sue letture al di là della lezione filologica di Folena che si sente attraverso la moglie ma anche nella capacità stessa di Cozzi di fare edizioni di testi in quel modo come lo fece per la Ricciardi come li fece per la Ricciardi ma probabilmente anche la sua cultura letteraria in qualche modo avrebbe bisogno di un approfondimento certamente se devo pensare a una prosa mi ricorda quella di Ferro e in questo è molto cantimoriano anche se Cantimorio non riuscì a scrivere mai come Fevre era molto più involuto e oggi la sua prosa è molto più datata rispetto a quella di Cozzi tornando al saggio del 52 scusate tutte queste digressioni ma ripeto l'ho intesa come una chiacchierata più che come un saggio da leggervi a prendere questo saggio ce ne sono per tutti ce ne sono per Pietro Savio e Raffaello Tavucci cioè i due storici che tentano di fare Sarpi cattolico Sarpi cattolico che però come un politico tenta di allearsi con i protestanti perché gli conviene insomma un Sarpi da ragione di Stato un Sarpi più boteriano di Botero questo lo irrita profondamente insomma non era uno dice che avrebbe rifiutato la messa semplicemente per un'alleanza con i protestanti cioè prende sul serio il nodo della religiosità di Sarpi gli piace di più padre Buffon il quale invece da Löwen subì una specie di stigmatizzazione da parte dell'ordine perché aveva scritto questo libro in cui Sarpi usciva quasi jansenista diciamo per certi aspetti o comunque molto sensibile a questioni di tipo dottrinali ma anche il libro di Buffon alla fine è un libro troppo teologico per nella sua opposizione manichea tra chiesa di Dio e chiesa romana diciamo così a Cozzi risulta manicheo in una qualche misura ce n'è per Francescon a cui riconosce di avere in qualche modo rubricato i consulti ma di averlo fatto diventare una specie di trattatista del diritto ecclesiastico ce n'è per Salvatorelli ce n'è per Salvatorelli perché le pagine di Salvatorelli su Sarpi Sarpi come erede di Dante e di Marsilio da Patova Cozzi le trova in qualche modo forzate io a un certo punto se vogliamo cercare i veri eredi di Dante e di Marsilio nel 5600 sono i protestanti ovviamente non sono i cattolici e sin da queste pagine Cozzi ricorda l'importanza del rapporto con la tradizione gallicana più radicale quella dei primi anni del 600 soprattutto con Rysshe con l'elaborazione di un'ecclesiologia che era diciamo così la base la base per un possibile scisma e dice Cozzi bisogna prendere sul serio anche le carte degli inquisitori in qualche modo se il sospetto sull'eterodossia di Sarpi è maturato non è certo solo perché l'hanno costruito i nemici mi piace di più il libro di Giovanni Getto ma anche quello di Giovanni Getto in cui Paolo Sarpi è più tra virgolette un intellettuale che un frate e anche quello gli sembra alla fine troppo astratto non poteva conoscere il corso fatto da Chabot l'anno prima mi pare nel 1951 che poi è stato pubblicato da Gino Benzoni però mi pare nel 66 o 67 ma sospetto perché poi lo cita nell'edizione delle opere lo cita pochissime volte mi pare una o due volte soltanto a proposito dell'uso possibile o meno da parte di Sarpi di Jean Baudin ma temo che quel libro non gli piacesse non ho prove per dirlo ma anche in quel libro il Sarpi che veniva fuori era un Sarpi tutto politico sostanzialmente scarsamente religioso gli piace invece Romano Amerio e qui c'è il nodo fondamentale la capacità di Romano Amerio di andare verso c'è già nel 1952 la nota democritea che viene fuori dai testi di Paolo Sarpi mi pare proprio un aggettivo interessantissimo poi avrebbe usato il termine epicureo soprattutto nell'edizione delle opere ma stiamo andando in una direzione che guarda anche al di là del cristianesimo diciamo così questo è un aspetto importante e al nodo del rapporto tra intus e fora si potrebbe dire con una formula Cantimori compare pure lui compare come in questo saggio del 1952 dopo comparirà qua e là quasi dissimulato diciamo tutte le volte che Sarpi coraggetemi se sbaglio tutte le volte che Cozzi analizza la religiosità di Sarpi e in qualche modo nel saggio del 1952 lui lascia intuire che si tratta di un eretico italiano nell'epoca della stanchezza dogmatica e dello scetticismo cioè nella fase terminale in quello che potremmo chiamare l'autunno del rinascimento con un titolo di Bosma che non è il Bosma del libro che l'ha reso celebre negli anni Sessanta ovviamente un Sarpi inquieto un Sarpi a cui viene accostata spessissimo la parola riforma nel suo pieno significato religioso cioè quello di reformazio per l'appunto non di riforma con la R maiuscola diciamo così a me pare un aspetto molto importante questo il modo con cui tenta in qualche modo di ascrivere ma senza schiacciarlo del tutto nella tradizione cantimoriana Paolo Sarpi sin dal 1952 tanto più che le prospettive di storia ereticale di Cantimori sono del 1960 se ricordo bene ed è lì che Cantimori si interroga soprattutto sulla fase terminale della riforma in Italia più che negli scritti precedenti intendo dire dicevo della biografia per l'appunto nonostante tutte le premesse il fatto che in questo saggio si abbozzi sostanzialmente una biografia e una storia religiosa di Sarpi questa storia religiosa di Sarpi e questa biografia non vengono fuori c'è invece la biografia di Niccolò Contarini nel 1958 Don Arresta Cattolico ci ricorda come Contarini per Sarpi invece l'interdetto è il momento di svolta e da lì in qualche modo e soprattutto in quegli anni lo si può definire sostanzialmente un protestante e dice appunto Contarini era più facile da biografare nella conversazione con Marco Folin perché a Contarini non si sarebbe mai potuto chiedere dice Cozzi ma queste cose qui le ha dette perché gli faceva comodo perché era utile o perché ci credeva in sostanza Contarini rispetto a Sarpi è un libro aperto è qualcosa di più leggibile e ascrivibile dentro un cattolicesimo quasi di atmosfera diciamo così da cui Sarpi si distacca la vera biografia di Sarpi come vi dicevo è l'edizione degli scritti e basta guardare la struttura dell'opera per rendersi conto di questo c'è una parte fondamentale dedicata alla formazione di Paolo Sarpi che fa mette davvero i puntini sugli ricorda per esempio questo è un aspetto importante è la radice nominalista della sua formazione teologica questo è un aspetto importante ricorda l'insegnamento dei casi di coscienza ma lì bisognerebbe fare un'indagine per vedere se qualcosa è rimasto e stiamo parlando di un Sarpi ventenne è una pagina ignota se non diciamo non abbiamo prove mantovane se non erro però correggetemi se sbaglio il rapporto con Paleotti e quello non riuscito con Borromeo invece l'intuizione che Sarpi mantenne comunque un'interlocuzione e poi fece uso di una certa corrente canonistica contro la curia romana la corrente di Aspilcueta soprattutto e prima quella di Jean Gerson ovviamente ma soprattutto quella di Aspilcueta e questa pagina molto bella dedicata ai rapporti tra Sarpi e Bobadiglia la curiosità scientifica e qui compaiono Asselinò Acquapendente e ovviamente Galileo il rapporto con la comunità ebraica siamo negli anni sessanta non è così scontato certo era uscita la storia degli ebrei in Italia di Milano esistevano studi ovviamente sugli ebrei a Venezia ma certo parlare dei rapporti con le comunità ebraiche non era così consueto nella storia religiosa italiana fino agli anni sessanta compare anche il nome di Leon Modena la valorizzazione dei pensieri scoperti nell'archivio Donà delle Rose quello è un punto fondamentale di questa vicenda ci torniamo dopo perché una selezione dei pensieri come sapete fa parte ovviamente dell'antologia del 1969 poi arriva l'interdetto e qui c'è la seconda parte di questa raccolta di studi in cui sembra quasi programmatico da parte di Cozzi di non ripercorrere la scia di Gambarin da nessun punto di vista neanche nell'edizione dei testi perché il suo Sarpi non si deve esaurire nell'interdetto era appena apparso il libro di Boseman che citavo prima sin dall'introduzione alla seconda sezione delle sue opere Cozzi si pone la questione delle fonti di Paolo Sarpi che torna incessante anche nelle pagine dell'istoria del concilio quali sono le fonti su cui Sarpi si basò e ne esalta lo stile il suo fastidio per la sottigliezza nodo su cui forse Cozzi esagera diciamo che non so se esista davvero un fastidio per la sottigliezza da parte di Sarpi comunque fa gara per buona scrittura con Sarpi intendo Cozzi vi cito semplicemente vi ricordo semplicemente la pagina in cui racconta del momento della revoca della censura nel 1607 con il cardinal Joyeuse scrive che a fior di labbro mormora le parole di assoluzione accompagliando sotto il manto con il gesto di rito cioè uno si immagina davvero questo emissario papale che tenta di dissimulare in qualche modo l'atto di pronunciare una soluzione che la Repubblica non avrebbe sopportato soprattutto il mito della Chiesa Primitiva cosa su cui Cozzi lo dice Sarpi è più avanti dei protestanti nel senso che costruisce davvero un mito intorno a questo piano inclinato a questo declivio costante dal V secolo in poi della storia del cristianesimo occidentale fino all'ascesa del papato totato ovviamente la grandezza di Paolo Sarpi come ci ricorda in quelle pagine per l'ennesima volta è che Sarpi europeizza una battaglia contro il papato e che intende a farlo anche dopo lo fa facendo appello al concilio questo noto è importantissimo la questione dell'appello al concilio che avrebbe potuto approfondire ancora di più ma Cozzi ci ricorda che la bulla in cena domini vietava l'appello al concilio sotto pena di scomunica non ci si poteva appellare al concilio è una storia più lunga che parte dal XV secolo ribadita da Pio V nel 1568 poi c'è la terza fase quella è la parte più bella direi dei commenti di Cozzi alle opere di Sarpi collocabili tra il 1610 e il 1621 qui ci sono due opere che lui esalta soprattutto una è il trattato sulle materie beneficiarie che riesce davvero a sottrare a qualunque pazzo angusto della battaglia giurisdizionalistica il trattato sulle materie beneficiarie è una rivoluzione copernicana il modo con cui tratta di beneficio ecclesiastici Sarpi ci dice anticipa sostanzialmente Richard Simon qui annunciava un'edizione autonoma del trattato sopra le materie beneficiare che mi pare poi non sia mai stata fatta se non erro il rapporto ovviamente con i gallicani e i calvinisti francesi la centralità di un momento Enrico IV che si dissolve dopo il 1610 che è già deludente prima della morte per assassino di Enrico IV stesso e rispetto al saggio del 52 una maggiore insistenza sul mondo inglese qui credo che abbia contribuito davvero la stagione dei suoi viaggi cioè in qualche modo è come se gli si fosse scoperto un versante inglese che prende sempre più piede nel corso della produzione di Cozzi su Sarpi pensiamo alla figura di William Bedell ora è diventato come sapete oggetto di importanti studi recenti ma qui insomma in qualche modo a scoprirlo o a metterlo al centro delle vicende di quegli anni è proprio Paolo Cozzi Gaetano Cozzi scusate ormai è così non possiamo farci nulla quale modello di chiesa riformata si chiede insistentemente Cozzi aveva in mente Sarpi aveva fastidio intanto per i modelli chiusi non ha nessuna forma di attrazione per la chiesa luterana forse troppo poco sacralizzante certamente non gli interessa neanche fino in fondo la questione dottrinale c'è il passo in cui Cozzi ricorda che Sarpi difende l'idea degli adiafora sostanzialmente cioè di uno spazio dottrinale che non è necessario definire più di tanto è un Sarpi arminiano dunque attratto dal modello di chiesa gallicane o di chiesa anglicana in ogni caso di chiesa di stato in alcune pagine sembra diciamo di intravedere un Sarpi arminiano ma poi c'è il Sarpi guerra fondaio però quello che si aura lo scoppio della guerra che lo auspica che tifa perché la guerra riprenda dopo il 1615 e l'episodio diciamo della guerra contro gli Asburgo è un Sarpi che si avvicina paradossalmente alle france più radicali del sinodo di Dordrecht proprio perché aderisce a un'idea della guerra come momento che spariglia diciamo così la politica europea in anni asfitticamente dominati dalla Spagna lo saranno di più questi anni dominati dalla Spagna nella fase finale della produzione Sarpiana c'è una quarta fase e qui c'è Ceneda c'è il problema del mare Clausum qui stupisce che Cozzi invece non abbia collocato meglio i testi di Paolo Sarpi dentro la battaglia di scrittura che si era già aperta a livello europeo riguardante la questione dei mari ma io ho l'impressione che di mare in questa produzione Sarpiana ce n'è poco compare poi a un certo punto vi dico dove ma il mare certamente sì ci sono gli uscocchi ovviamente ma non è esattamente il mare lì il Nogo e poi c'è l'istoria del concilio Sleidan le fonti la tendenziosità di Paolo Sarpi nell'uso di queste fonti il rimarcare che si tratta di una storia ideologica da valorizzare esattamente come storia ideologica con Sarpi dice il diaframma di letteratura tra evento narrato e lettore è scomparso è un'operazione anche che in qualche modo chiude la stagione dell'opus retoricum maximum della storiografia umanistica per questo si può ripetere che la sua opera rende partecipe alla storiografia della rivoluzione scientifica ci dice Sarpi è un giudizio piuttosto interessante e si colloca poi nelle pagine in cui ribadisce che il suo impegno aumenta nella fase finale della sua vita invece di diminuire parla di una volontà caparvi e rabbiosa di scuotere la Repubblica prima della sua eclissi diciamo così internazionale è il Sarpi barocco fatto di scrupoli di verità e di incitamenti alla perfidia dice in una in una pagina molto bella il Sarpi anche della valtellina della questio quadlibetica delle stupende pagine sul diciamo così sul dialogo alterco col principe di Condè che sono forse le più belle pubblicate in quella raccolta e l'inquisizione ci sono delle scelte che vengono operate da Gaetano Cozzi in questa edizione al di là del fatto che compare molto poco la parola contro riforma e anche questo è interessante poco rilievo dato all'inquisizione basta vedere l'edizione dei consulti ce ne sono sulla censura libraria ce n'è solo uno dedicato all'inquisizione romana anche la questione del giuramento in qualche modo non emerge e non emergerà diciamo abbastanza negli scritti di Sarpi fino alle pagine di Paolo Prodi non c'è neanche un interrogativo su che cosa significhi la battaglia per esempio contro la censura romana nelle opere di Sarpi il fatto che in qualche modo se Sarpi non è un fautore della libertà di stampa come ci dice Cozzi certamente però ha un'idea ha un progetto della censura così come ha un progetto di governo dei costumi su cui in qualche modo le pagine di Cozzi restano in superficie poco rilievo viene dato anche al modello della chiesa orientale più volte Cozzi parla dell'attrazione di Sarpi per la chiesa greca ma questa cosa non viene messa secondo me mai a fuoco pochissimo sull'antigesuitismo anche e per un paradosso c'è poco sulla costruzione del mito nero dei gesuiti persino nel saggio sui gesuiti del 1990 in cui Sarpi c'è ma il Sarpi critico della confessione auricolare più che l'orditore diciamo della leyenda uno degli orditori della leyenda negra antigesuitica e la confessione che lo interessa come aveva interessato Gobetti mentre ad aver capito l'importanza della costruzione del mito antigesuitico era stato Chabot nelle dispense del 1951 assenza di Machiavelli presenza di Guicciardini invece nei commenti appunto di Gaetano Cozzi a Sarpi se non in una nota in cui si citano i primi studi di Enzo Cervelli e poi la questione dei pensieri quando pubblica i pensieri in nota però tira fuori la questione del libertinismo lo fa a pochi mesi all'uscita di un saggio del suo amico Alberto Tenenti citando Giorgio Spini ma Cozzi si rifiuta di seguire diciamo la pista delle suggestioni averroistiche come le chiama lui che in Sarpi sarebbero state invece surclassate dalla passione politica insomma la domanda che mi sto facendo è perché Cozzi non ha portato fino in fondo questa domanda sulla cristianità diciamo di Sarpi che poi è immersa come sapete in studi successivi Sarpi scettico per esempio di Vittorio Freiese non so Sarpi viene collocato culturalmente nell'alveo dello stoicismo dello scetticismo e dell'epicureismo ma ripeto la zampata non c'è e così ancora nel 79 quando pubblica l'inedito di Paolo Sarpi tra Venezia e l'Europa dice il problema di caratteri che avrebbe dovuto avere la chiesa veneziana dopo la rottura col pacquato era per Sarpi secondario l'importante era che la rottura avvenisse che si costituisse una chiesa autonoma da Roma non entra sulle questioni dottrinali men che meno sulla natura più eterodossa di Paolo Sarpi nel saggio però pubblicato nel 79 si affacciano questioni che nell'edizione delle opere non ci sono per esempio il Sarpi che colleziona come dire documenti sulla compagnia delle Indie e sugli affari delle province unite perché in qualche modo ha sentore dell'importanza ormai acquisita negli ultimi cento anni dalle nuove forme del colonialismo europeo e dai traffici in Asia su questo però diciamo Cozzi resta in qualche modo prima c'è un riconoscimento tardivo invece dell'importanza della questione dell'eterodossia totale di Paolo Sarpi che compare in Venezia barocca siamo nel 1995 c'è la prefazione che è un testo importantissimo la moglie nello stesso anno insieme al libero socio manda in stampa i pensieri una raccolta finalmente ben fatta una pubblicazione ben fatta dei pensieri qui Cozzi ricorda di aver mandato quei pensieri trovati nell'archivio Donà i pensieri medico-morali di averli mandati già negli anni 50 a due personaggi illustri uno era Cantimori che dubitò della loro autenticità ci racconta Cozzi e l'altro era Don Giuseppe De Luca il quale gli rispose con una lettera nel 56 piuttosto sconcertato dice se fossero suoi scriveva Don Giuseppe De Luca Cristiano Sarpi non è in nessuna maniera un montegne ma frate che cosa terribile diceva De Luca il montegne frate insomma a me pare che in qualche modo Cozzi si sia emancipato anche dal suo gobettismo attraverso questo riconoscimento come dire che non tutto si racchiude nella mancata riforma o no cioè è un Sarpi diverso quello di queste poche note che gli dedica diciamo dopo gli anni 80 forse l'aveva anche invitato l'aveva fatto ripensare l'acribia filologica della moglie insomma c'è un altro Sarpi che viene fuori e non è più il Sarpi della mancata riforma e c'è un Sarpi più intimo che ogni tanto Cozzi tira fuori anche in vecchiaia il Sarpi intimo però era comparso e qui chiudo nel saggio più volte citato bellissimo sull'eroica amicizia nel momento in cui regala Trevisanne a Barbarigo attraverso Trevisanne il saggio sull'amicizia di Michel de Montaigne tradotto da Fulgenzio Micanzio Sarpi che compare si lascia scuotere dal giovane Trevisanne anche qui un rapporto tra vecchi e giovani in una certa misura tanto che Trevisanne cerca di sapere se Sarpi fosse dice Cozzi realmente padrone dei suoi affetti o in preda ad affetti diversi ora in tempi di storia delle emozioni se ne parla tanto ultimamente lo sa meglio di me Tiziana Plebani a me pare che questo saggio sia una specie di medaglione anteliteram di storia delle emozioni o di storia dei sentimenti si sarebbe detto con Lucien Fevre l'ennesima incursione mi pare di un fuoriclasse in una storia della politica e della cultura che negli anni 60 in quell'Italia e in quella Venezia nessuno praticava un ritratto di Sarpi che a me pare assomigliare a Cozzi stesso grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti